Ora si registrerà la conferenza. In rosso ho evidenziato quelli che sono le leggi, gli articoli, i decreti che l'articolo 119 e il decreto attuativo riprende puntualmente. Quindi lì vediamo e poi vediamo nella normativa di riferimento che cosa dicono. Quindi all'articolo 119,1 la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013 numero 63, questo qui è l'articolo cardine insieme al comma 3 che poi vedremo, l'articolo cardine che regola tutto il decreto legislativo, il riferimento al super bonus. Quindi convertito con modificazione dalla legge numero 90, si applica non più nella misura del 65% come vedremo successivamente, ma nella misura del 110%. In quali casi? Andiamo ad analizzare i vari casi. Interventi di isolamento termico delle superfici opache, verticali e orizzontali, quindi tutte le superfici opache, che interessano l'involucro edilizio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Quindi gli interventi si applicano a questa tipologia, alla lettera A, si applicano a questa tipologia di superficie. Per un'incidenza superiore al 25% la cosa importante è che noi parliamo dei materiali. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali digni, quindi il CAM di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, dell'11 ottobre 2017, che poi è stato pubblicato nella cassetta ufficiale numero 259 del 2017. Quindi cominciamo da questi due elementi, l'articolo 14 del decreto legge e i criteri ambientali digni. Sempre l'articolo 19, B, interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, esistenti con impianti centralizzati, ovviamente si parla non delle azioni che conoscete benissimo, trainate, ma parliamo delle trainanti in questo caso, quindi invernale, esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e il raffrescamento, la fornitura di acqua calda, sanitaria, condensazione o a pompa di calore, vediamo subito il dopo, anche qui in rosso, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato dell'Unione Europea numero 811-2013 della commissione del 18 febbraio 2013. Quindi questo è un altro elemento cardine nello studio di che cosa noi possiamo andare ad applicare come tipologia di materiali. Dicevamo a pompa di calore, in inclusi gli impianti ibridi che poi svilupperemo lungo il percorso giugno-ameriggio in maniera abbastanza, diciamo, lo potremo vedere successivamente, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici come al comma 5, relativi sistemi di accumulo, ovvero impianti di microcogenerazione. Quindi abbiamo un altro parametro. Al comma 3, qua ora entriamo nell'altra parte, ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi precedenti devono rispettare i requisiti minimi previsti da quale decreto? Dal comma 3 ter dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013 numero 63. Quindi sempre convertire in legge successivamente, eccetera, eccetera. E devono assicurare anche congiuntamente, chiaramente ai commi 5 e 6, che parliamo di fotovoltaico, di altre energie rinnovabili, il miglioramento di almeno due classi energetiche. Quindi, insieme a quello che abbiamo visto prima, l'articolo 14 del decreto legge 2013 numero 63, il CAM e poi diciamo, o qua ci sono i requisiti minimi, chiaramente sono tutti elementi che andremo a vedere e questo è per quanto riguarda la parte dell'articolo 119. Andiamo al decreto attuativo del MISE del 6 agosto 2020. Articolo 1,1 applicazione e definizioni. Il presente decreto di inattuazione sempre dell'articolo 14,3 terro del decreto legge definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica del patrimonio di inizio diciamo esistenti, spettanti. Quindi decreta, il decreto attuativo dice che in attuazione dell'articolo 14,3 terro che abbiamo visto vengono definiti i requisiti tecnici affinché si possa ovviamente avere cioè si possono applicare gli interventi di cui alla legge. L'articolo 1 questa volta comma 2 ai fini del presente decreto si applicano le definizioni quindi del decreto dello storico decreto il 192 del 2005 decreto che per i termotecnici e per chi si occupa di parti energetiche chiaramente è la parte principale. Quello per le definizioni per la parte invece dei requisiti minimi come vedete decreto del ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante applicazioni delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni delle prescrizioni dei requisiti minimi degli edifici quindi abbiamo notato quali sono gli attori principali per quanto riguarda la parte sia dell'articolo 119 che del decreto attuativo e quali sono gli attori principali dal punto di vista delle leggi che sono state eseguite e che bisogna seguire e qui infatti andiamo a analizzare velocemente appunto la normativa vista il decreto legge 4 giugno 2013 numero 63 all'articolo 14 che dice detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica come ho detto all'inizio recitava le disposizioni eccetera eccetera e successive modifazioni si applicano nella misura del 65% non è più vero non si applicano più nella misura del 65% ma nella misura del 110 infatti non so se notate c'è scritto nella nella legge c'è scritto periodo sospeso dal decreto legge 19 maggio 2020 numero 34 convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 numero 77 quindi è stato sospeso e passato dal 65 al 110% vediamo invece il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio come avevamo detto altro elemento fondamentale cosa dice criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici in realtà nasce per edifici pubblici e oggi è stato ampliato a tutto quello che è il patrimonio diciamo edilizio nazionale quindi non solo per edifici pubblici ma anche per tutto quello che sono gli edifici del patrimonio sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e questi servizi di progettazione sono riportati nell'allegato cioè i requisiti minimi sono riportati nell'allegato al presente decreto non riporto l'allegato ma vi dico diciamo dove andare a vedere le specifiche al punto 2.4 dell'allegato del decreto si trovano tutte le specifiche tecniche dei componenti edilizi quindi all'allegato al punto 2.4 ci sono le specifiche tecniche se andiamo avanti vediamo in particolare al punto 2.4 punto 2.9 dell'allegato del CAM ci sono esattamente i requisiti da rispettare per i materiali isolanti termici ed acustici compresi appunto gli obblighi che il progettista deve verificare affinché tutto abbia valuta quindi nel decreto del ministero dell'ambiente requisiti punto criteri ambientali minimi per il CAM riusciamo tramite gli allegati a trovare esattamente quali sono i requisiti per gli isolanti per i materiali che dobbiamo utilizzare non solo le caratteristiche dei materiali ma troviamo anche gli obblighi che il progettista deve verificare per quanto questi sono anche specificati successivamente nel proseguo della lezione diciamo questi qua erano le prime due parti quindi l'articolo 14 del decreto legge del 2013 e il CAM l'altro elemento che avevamo visto è il regolamento delegato dell'Unione Europea numero 811 del 2013 della commissione del 18 febbraio 2013 cosa riguarda? riguarda in effetti quelle di che conosciamo tutti e che viene riportata ormai su tutte le tipologie di apparecchi quell'etichettatura dove c'è la scala che scala da verde a rosso diciamo i vari colori dove vengono esposte la tipologia di classe energetica della strumentazione ed è proprio questo il regolamento delegato che viene utilizzato sempre riguarda l'etichettatura indicante il consumo dell'energia degli apparecchi per il riscaldamento dell'ambiente gli apparecchi di riscaldamento misti gli insiemi di apparecchi per riscaldamento ambiente dispositivi di controllo per la temperatura e per i dispositivi solari all'allegato 2 del regolamento citato si trovano le tabelle dalla 1 alla 4 le quali mostrano le classi di efficienza energetica che la relativa efficienza è da esse stagionale per le varie apparecchiature atte al riscaldamento degli edifici quindi è proprio in questo in questo diciamo regolamento cioè l'applicazione di questo regolamento che noi normalmente quando andiamo a comprare qualsiasi tipo di apparecchio da quello che proviamo a comprare nei centri commerciali ad altro abbiamo quella tabella quell'etichettatura di consumo energetico e poi abbiamo il comma 3 terra dell'articolo 14 del decreto legge numero 63 anche questo in questo sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni è chiaro che viene specificato nell'emore dell'emanazione del decreto vinceva diciamo il decreto precedente per quanto riguarda i requisiti i requisiti tecnici che erano quelli del del ministero dell'economia del ministero dello sviluppo economico del 2018 del 2008 e del 2007 a questo punto altro elemento cardine che abbiamo visto precedentemente quando abbiamo parlato dell'applicazione dei vari decreti delle varie normative abbiamo il decreto del ministero dello sviluppo economico quindi 26 giugno 2015 cosa 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 qual è la sua importanza il decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici quindi è effettivamente quel decreto che ci dà le regole per poter calcolare le prestazioni energetiche degli edifici incluso quelle per le fonti rinnovabili nonché le prescrizioni i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici delle unità immobiliari quindi ci si riferisce anche nell'emore quindi nell'attesa del decreto attuativo perché il decreto attuativo definisce con le tabelle che conosciamo le tabelle E F G e quant'altro ci dà in maniera specifica in maniera puntuale ci dà i requisiti minimi che dobbiamo seguire quando andiamo a fare la progettazione quindi quando andiamo a fare per esempio una stratigrafia applicando applicando dei materiali per far sì che le superfici opache o le superfici trasparente o quant'altro possa rientrare nell'applicazione del super bonus ed ecco appunto ora andiamo a vedere cosa rientra appunto come spese ammissibili per le quali spetta la detrazione definito dal decreto attuativo del PIS dell'articolo 5 che diciamo raggruppa tutta questa tutta questa parte e allora come dice la detrazione per la realizzazione degli interventi spetta per le spese relative a lettera interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica u degli elementi opachi costituenti l'involvo edilizio purché detta trasmittanza non sia superiore ai pertinenti valori di cui all'allegato è che ora vedremo comprensibili delle opere provvisionali e accessorie quindi la riduzione della trasmittanza termica u degli elementi opachi le spese di questo miglioramento possono essere portate in detrazione e quali sono e qual è il metodo per ridurre la trasmittanza termica degli elementi opachi allora forniture messe in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti quindi chiaramente non c'è non abbattiamo murature ma miglioriamo quelle esistenti applicando dei materiali materiali coibenti forniture messe in opera di materiali ordinari perché possiamo utilizzare ovviamente anche materiali ordinari e per anche questi necessari alla realizzazione di strutture murarie che migliorino che a ridosso appunto delle preesistenti migliorino la prestazione la prestazione energetica della struttura esistente quindi per il miglioramento delle caratteristiche termiche demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo demolizione ricostruzione o spostamento anche sotto traccia degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto di intervento di cui alla presente lettera A quindi anche gli impianti che possono essere demoliti ricostruiti oppure spostati possono essere portati cioè le spese di questo possono essere portate in detrazione a questo punto abbiamo parlato dell'allegato E quindi abbiamo parlato di tabelle di riferimento abbiamo parlato di valori di trasmittanza a questo punto possiamo vedere cosa il decreto attuativo ci obbliga per le varie tipologie di intervento in questa schermata possiamo vedere strutture opache orizzontali isolamento delle coperture quindi qui abbiamo gli obblighi da normativa i valori di trasmittanza uve dobbiamo rispettare quindi al di sotto minore o uguale del valore rivoltato nella tabella e quindi abbiamo tutte le zone climatiche la nostra zona la zona climatica B inferiore o uguale a 0,27 watt metro quadro su metro quadro per kelp quindi questo è il limite al di sotto del quale possiamo andare per diciamo migliorare l'isolamento delle coperture ovviamente l'allegato E è composto da più diciamo riquadri li andiamo a vedere li andiamo a vedere singolarmente se quelle erano le coperture qua parliamo invece di isolamento dei pavimenti valori di trasmittanza u per isolamento dei pavimenti quindi tante volte mi viene chiesto o mi viene detto vorrei rifare il pavimento quindi penso di fare l'impianto a pannelli radianti quindi l'impianto a bassa temperatura a pavimento è chiaro che l'isolamento dei pavimenti va effettuato esclusivamente quando il pavimento è contro terra o comunque contro elemento non riscaldato perché il pavimento interpiano non rientra in quanto elemento trasparente se sotto appunto abbiamo appartamenti quindi abbiamo obbligo di riscaldamento io tendenzialmente dico sempre che dalle nostre parti sarà una mia visione dalle nostre parti il pavimento radiante secondo me proprio per tipologia di temperatura tipologia anche di di utilizzo di impianto tendenzialmente non è un'ottima soluzione in quanto noi non abbiamo né quelle temperature rigide che ci costringono a tenere sempre attivo un impianto di riscaldamento e appunto non abbiamo sulla base delle temperature non abbiamo neanche l'abitudine a utilizzare l'impianto di riscaldamento con questa tipologia di di metodo in quanto un impianto da noi tipicamente utilizzato a radiatori lo accendiamo ad un orario lo spegniamo ad un altro anche secondo la normativa vigente chiaramente un impianto a pannelli radianti è invece essendo a bassa temperatura avendo un'inerzia termica abbastanza lenta ma se utilizzato costantemente quindi tra virgolette come dico sempre io acceso a novembre a ottobre spento ad aprile e chiaramente nella nelle grandi medie lunghe di utilizzo ha il grande risparmio quindi questo è stato scusatemi un inciso che volevo fare proprio sul discorso dell'isolamento dei pavimenti come ben vedete comunque l'isolamento dei pavimenti le tabelle parlano appunto chiaro 0,40 watt 0,4 watt sul metro quadro per kelvin anche questo è un altro elemento e infine abbiamo le strutture a pache verticale appunto isolamento delle pareti perimetrali anche queste qua abbiamo valori di 0,38 watt su metro quadro per kelvin come limite di trasmittanza termica da poter sviluppare per quanto riguarda appunto l'isolamento delle pareti perimetrali ulteriori spese per le quali appunto abbiamo visto soltanto il comma A andiamo avanti vediamo il comma B interventi che compongono che comportano scusate una riduzione della trasmittanza termica U delle superfici trasparenti quindi finestre comprensive ed infissi purché la trasmittanza non sia sempre superi ai parametri dei valori sempre dell'allegato che ora andiamo a vedere come si migliora come possiamo migliorare la trasmittanza termica delle superfici trasparenti lo possiamo migliorare acquistando nuove finestre comprensive appunto di infissi quindi le strutture vecchie probabilmente in legno piuttosto che in in pvc piuttosto che in alluminio con trasmittanze abbastanza elevate di tre cinque o ovunque elevate trasmittanze finestre diciamo a taglio termico non fissi a taglio termico con valori compacenti con l'allegato che ora andiamo a vedere miglioramento delle caratteristiche termine appunto possono essere i componenti vetrati esistenti con integrazione e sostituzione se la struttura l'infisso può essere diciamo con dei valori adeguati potremmo migliorare la superficie vetrale è chiaro sempre che di questo bisogna avere poi successivamente una dichiarazione da chi monta monta o smonta l'infisso per poter montare un infisso di natura diversa quindi che non nasce prettamente all'interno della fabbrica ma viene modificato è chiaro che poi dovrà rilasciare una dichiarazione dove si assume la responsabilità di dire qual è la trasmittanza termica dell'infisso risultante dell'infisso modificato e poi c'è la coibentazione o la sostituzione dei gassonetti e appunto sempre il rispetto dei valori che ora andiamo a vedere e queste sono le trasmittanze i valori di trasmittanza termica per quanto riguarda gli infissi quindi la sostituzione degli infissi e abbiamo delle trasmittanze che vanno al di sotto dei 2,6 watt sul metro quadro per kelvin ovviamente vi leggo quelle di nostra pertinenza gli altri che chiaramente sono tabellati non c'è bisogno di ve li leggo ma sono visibili nel caso in cui si dovesse operare e fare degli interventi in zona diversa da quella nostra zona climatica diversa da quella nostra e comma comma b andiamo comma c interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e o chiusure tecniche oscure antimobili quindi tante volte non ci facciamo caso ma la struttura l'involucro esterno che è costituito dalle superfici o pari dalle superfici trasparenti e può essere ulteriormente migliorata la diciamo la trasmittanza l'abbassamento della trasmittanza verso l'interno mettendo appunto questi sistemi di schermatura solare che possono essere montati in vari modi in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti all'interno all'esterno integrati con superfici minestrate nonché l'eventuale montaggio dismissione di analoghi sistemi preesistenti nonché anche la fornitura nessuna opera di meccanismi automatici per la regolazione ben sappiamo che ci possono essere ad esempio per quanto riguarda le in questo in questo momento non mi viene il termine scusate comunque sono le alette diciamo di emissione della luce solare all'interno degli appartamenti e ovviamente anche questi qua sono mobili e sono anche regolati elettronicamente o manualmente per far sì che appunto la diciamo la parte di radiazione solare possa o meno essere bloccata anche questa deve seguire deve seguire delle regole quindi il valore massimo di trasmittanza è dato dall'allegato 1 ed ecco dove forse qualcuno prima poteva dire scusami ma se il decreto attuativo del MISE ci dà le tabelle perché dobbiamo seguire il DM 26 giugno 2015 ecco siccome il decreto attuativo del MISE ci dà delle tabelle ma poi ci rimanda per alcune cose per alcuni parametri per l'applicazione di alcuni materiali diciamo ci rimanda a quello che è appunto il decreto ministeriale 26 giugno 2015 e in questo caso per esempio proprio per le chiusure tecniche trasparenti opache ci rimanda al punto 5.2 requisiti e prestazioni per la riguardiazione degli impianti tecnici alla lettera C e D troviamo proprio i riferimenti a seconda chiaramente delle condizioni nelle quali ci si trova perché il calcolo del valore di trasmittanza delle chiusure tecniche non è proprio lineare è un po' complesso ed è determinato da tanti parametri appunto tra cui quello dove ci si trova qual è la superficie e quant'altro da utilizzare appunto per verificare i valori di trasmittanza massima che si può raggiungere per le chiusure tecniche trasparenti e opache in particolare tutto questo si trova nelle tabelle 4 o 5 dell'appendice B del del decreto del decreto del ministero visto sopra quello del 26 giugno 2015 dunque faccio sempre l'epilogo abbiamo visto comma A comma B comma C comma D interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e o la produzione di acqua calda sanitaria e l'installazione di sistemi di building automation quindi anche queste sono delle spese ammissibili di cui rispetta la detrazione quindi appunto possiamo andare a sostituire la tipologia di impianti di climatizzazione invernale invernale ci dice invernale perché è l'obbligo di legge chiaramente possono essere invernali e estivo e allora vediamo di entrare più nel dettaglio 1 forniture e posinopera di tutte le apparecchiature termiche meccaniche elettriche ed elettroniche nonché delle opere idrauliche e murarie quindi tutto quello che è propedeutico all'installazione delle apparecchiature termiche meccaniche elettriche ed elettroniche ricade nelle spese che spettano appunto di cui si può avere detrazione per la realizzazione di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze anche in integrazione con impianti termici quindi impianti solari termici rientrano anche integrati con impianti termici smontaggi e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente parziale o totale quindi può essere totale può essere solo una parte e forniture posi in opera di tutte le apparecchiature di nuovi termini meccaniche elettriche elettroniche o peritrauliche murarie come abbiamo visto necessarie per la sostituzione regola dell'arte degli impianti di climatizzazione invernali come l'articolo 2 comma 1 lettera E quindi con impianti di cui è l'articolo 2 comma 1 lettera E che ora andiamo a vedere perché in questa diciamo dicitura beh si si raccolgono una miriade di tipologie di impianti quindi la tipologia di impianti si va a specificare nell'articolo 2 comma 1 lettera E che ora andiamo a vedere ovviamente sono sono ricomprese le spese per l'adegamento della rete di distribuzione e di diffusione dei sistemi di accumulo dei sistemi di trattamento dell'acqua dei dispositivi di controllo regolazione e nonché dei sistemi di emissione faccio un inciso del tutto personale tutta questa quantità di spese devo dire che alcune volte mi viene il dubbio che nella nella disponibilità che viene data tante volte bisognerebbe bisogna stare attenti a vedere se ci si rientra oppure no perché effettivamente la legge da come diciamo spese ammissibili praticamente un po' tutto spese di dismissione di smontaggio le spese della rete di distribuzione cioè tutto è compreso all'interno delle spese che possono essere portate in operazione se chiaramente tutto è diciamo tutto è rispettante la normativa e i decreti però ecco tante volte ci si domanda ma si rientra nelle disponibilità economiche questa è una cosa che giro un po' a tutti e allora a questo punto andiamo a vedere l'articolo 2 ma 1 lettera e cioè tutta la tipologia di di interventi quindi di caratteristiche degli impianti che possiamo andare a detratto e allora abbiamo interventi riguardanti gli impianti di legalizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria diciamo secondo l'articolo 1 eccetera eccetera non veroloico che sono praticamente quello delle calderie a condentazione e di cui lettere B e C sempre del decreto dell'articolo 19 del decreto che praticamente è rispetto cioè che guarda non solo la parte dei condomini diciamo così ma anche quello delle billette singole scusate sento forse qualcuno ha il microfono aperto mi sentite nel ritorno Nino ciao sono Simona io qua però non vedo nessuno con il microfono attivo ciao Simona scusami io vedo può essere Antonio Lamberto con un microfono attivo ora provo a disattivarlo dal computer non si vede aspetta un attimino Alberto ok va bene ora lo vedo spento comunque non è un problema continuo in ogni caso ok ok va bene scusami no scusami ciao allora dicevo appunto questo tipo di interventi di climatizzazione invernale di produzione di acqua calda sanitaria che rientra appunto nell'articolo 1 con modo da 147 eccetera della legge che sono le calde e poi appunto dicevo tutto quello che si può applicare a seconda del decreto per quanto riguarda sia i condomini sia le villette singole oppure i familiari e tali interventi quindi possono riguardare allora iniziamo sostituzione integrale parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti totali di calda e climatizzazione bene questo è il tipico tipico la tipica sostituzione o comunque il tipico intervento che si si va a fare o comunque anche che si va a suggerire tante volte quando facciamo un'ape tante volte dobbiamo dobbiamo obbligatoriamente dare diciamo i suggerimenti per il miglioramento della classe energetica tante volte si fa un suggerimento appunto quello di mettere la calda e la condensazione perché chiaramente è un requisito di miglioramento energetico se completato con tutto quello che una calda e la condensazione diciamo prevede come possono essere e ora lo vedremo i sistemi di building automation inerenti alla climatizzazione piuttosto che l'elettrovalvole piuttosto che tanti altri piccoli elementi i medesimi interventi di cui appunto uno con la contestuale installazione appunto come dicevo di sistemi termoregolazione evoluta termoregolazione evoluta infatti i sistemi di termoregolazione appunto che sono cioè il sistema di questi sistemi migliorano chiaramente l'impianto e quindi la resa energetica dell'impianto devono però avere dei requisiti devono appartenere alle classi 5, 6 e 8 oppure 8 no e 8 quindi o 5 o 6 o 8 della comunicazione della commissione a 2014 C207 barra 0 2 cosa significa? lo andiamo a vedere tante volte noi termostati ambientali lì giustamente ce li abbiamo e tante volte non sappiamo che rientrano in alcune classi appunto le classi di questa comunicazione di questa commissione e sono appunto di tre tivi il classico termostato d'ambiente modulante non è altro che il termostato vero e proprio quindi la centralina dotata di sensore e cosa fa? noi impostiamo la temperatura e la temperatura del flusso dell'acqua che viene il sistema controlla fa in modo di fare un matching tra la temperatura ambiente e la temperatura alla quale deve portare l'acqua per portare per apportare quella quantità di energia affinché queste due temperature prima o poi diventino la stessa temperatura spero di essere stato chiaro forse un po' diciamo articolato ma credo che il concetto sia abbastanza semplice e questo è quello diciamo la classe 5 è il termostato semplice la centralina di termoregolazione con sensore ambiente questo invece c'è la centralina di termoregolazione che si dà in un punto dell'appartamento dopodiché c'è il sensore ambientale il termostato che fa varia la temperatura del flusso dell'acqua lasciando che l'apparecchio di riscaldamento dipenda appunto dall'attivizzazione tra la temperatura del sensore ambiente e la temperatura impostata facendo in modo che appunto questa temperatura prima o poi venga ad essere la stessa quindi controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione migliore con l'abitabilità del vano è chiaro la classe 8 è la centralina di temperatura del controllo di temperatura ambientale quello più complesso perché non ha soltanto il sensore della centralina non ha il non ha il sensore un sensore ambientale ma ha più sensori munito di tre o più sensori ambientali che ovviamente possiamo utilizzare in maniera tale che ogni ambiente abbia il suo controllo di temperatura quindi il sistema sicuramente più complesso più articolato ma è ancora più efficiente chiaramente quindi il sistema i sistemi aumentano di complessità via via che la classe passa da 5 a 8 andiamo avanti quindi eravamo a 2 passiamo a 3 i medesimi interventi di cui i punti 1 e 2 si possono applicare appunto anche per edifici unifamiliari o immobili situati all'interno di edifici plurifamiliari quindi questo diciamo questo punto lo vedrete ripetuto periodicamente perché diciamo ricorda tra virgolette che l'applicazione degli interventi descritti può essere fatta sia per gli edifici plurifamiliari condomini diciamo così come edifici unifamiliari o immobili situati all'interno di edifici plurifamiliari sostituzione andiamo avanti 4 la sostituzione integrale parziale con impianti dotati di generatore d'aria a condensazione anche questi sono delle applicazioni un po' più particolari può utilizzare il 5 la sostituzione integrale parziale di impianti di finalizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore d'alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia quindi l'unione di questi elementi che sono destinati a climatizzare a fare la climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili chiaramente come dicevo possono fare anche la climatizzazione estiva in questo caso se reversibili ma quella non è obbligatoria e devono avere i requisiti dell'allegato F che vediamo dopo questo 6 ricorda il 3 di prima cioè che vengono l'applicazione si può applicare questo tipo di impianto si può applicare anche negli edifici appunto unifamiliari o meno 7 la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione con impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione realizzate e concepiti per funzionare in maniera univoca appinata tra di loro 8 non lo dico più è la stessa cosa di prima 9 la sostituzione funzionale integrale o parziale di impianti di climatizzazione con impianti dotati di micro con generatori di potenza elettrica inferiore a 50 kWh quindi questi devo dire per quanto possa aver fatto impianti non mi sono mai capitati impianti di micro con generazione spero che voi l'abbiate fatti però ecco che è possibile la sostituzione degli impianti di climatizzazione inferiore con impianti dotati di micro con generatori l'importante che siano con potenze elettriche inferiore a 50 kWh 11 la sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua pompa di calore dedicate alla produzione di acqua calda sanitaria anche qui non so se li avete utilizzati o visti o li ho utilizzati sono devo dire degli scaldaacqua che rispetto i classici che avevamo scaldaacqua dicevo una volta diciamo questi scaldaacqua sono degli scaldaacqua con tecnologia pompa di calore totalmente diversi funzionalmente e funzionalmente ed energeticamente migliorativi rispetto ai vecchi scaldaacqua solamente resistenza hanno svariati tipologie di utilizzo ma lo vedremo dopo di cui abbiamo un esempio lo vediamo successivamente l'installazione di scaldaacqua pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda e comunque quando questo può avvenire anche come generatore di calore per la climatizzazione invernale quindi ipoteticamente potremmo utilizzare un diciamo l'installazione di questo tipo di scaldaacqua pompa di calore anche destinato alla climatizzazione invernale l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili anche qua c'è una serie di tipologie che andremo a vedere successivamente questi sono degli elementi appunto un po' particolari esclusivamente 14 dice che esclusivamente per le aree non metanizzate la sostituzione dell'impianto di finalizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 per la classe 5 stelle individuata appunto dal dal decreto del ministero dell'ambiente 7 novembre 2017 numero 186 questo è al 14 al 15 abbiamo l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente definiti secondo l'articolo eccetera eccetera questo diciamo si può andare a riguardare ma che appunto riguarda esclusivamente i comuni montani e questi ecco ripeto anche questi sono della tipologia di impianti particolare almeno per le nostre zone per quanto ci riguarda però sono tipologie di impianti che possono essere tranquillamente portate in detrazione quello era l'articolo torno un attimo indietro per farvi vedere questo qui quindi era la fine dell'articolo 2,1 lettera E cioè la tipologia e caratteristiche degli interventi relativa agli impianti che possono essere portati in detrazione torniamo appunto all'articolo 5 che sono le spese perché veniva dall'articolo 5 le spese per le quali spetta la detrazione 1 e 2 l'avevamo fatto andiamo al terzo punto forniture e posinopera di tutte le apparecchiature elettriche elettroniche meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione messa in funzione regolare all'interno degli edifici di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici quindi sistemi di building automation applicati agli impianti termici per quanto riguarda gli edifici sono anch'essi delle spese che possono essere portate in detrazione non è compreso chiaramente l'acquisto cioè nelle spese ammissibili l'acquisto dei dispositivi che permettono di interagire il cellulare piuttosto per il computer il tablet e chiaro le non sono spese che possono essere ammissibili per essere detratte chiaramente dai quali noi ormai riusciamo a pilotare i nostri sistemi di climatizzazione evoluti in totale remoto da qualsiasi parte del mondo ci troviamo a questo punto analizziamo l'allegato F quindi l'allegato F requisiti delle pompe di calore elettriche e delle pompe di calore a gas e abbiamo questa allora questo che vediamo è quali sono i requisiti che devono avere le pompe di calore elettriche pompe di calore che accedono alla detrazione devono soddisfare alcuni requisiti e sono il COP che conosciamo tutti il coefficiente di prestazione istantanea l'ER l'Energy Efficiency Ratio cioè il rendimento della macchina del ciclo di Carnot per le pompe di calore elettriche devono essere almeno pare a certi valori della tabella 1 che andremo a vedere la prestazione delle pompe quindi deve essere dichiarata e garantita dal costruttore scusate non si sente bene cioè sono io che parlo piano oppure datemi qualche notizia perché leggo non si sente bene anche gli altri hanno lo stesso problema si sente bene va bene si sente a scatti qualcuno sente bene qualcuno sente a scatti io sento bene va bene va bene io magari vado avanti e se Paolo di Paola perché credo che lui abbia problemi ci fa sapere io gli altri che mi stanno scrivendo in questo momento si sente bene va bene allora tenterò di parlare magari un po' più forte ok vado avanti allora dicevo per quanto riguarda le pompe di calore elettriche ci sono dei valori di COOP e di ER che dobbiamo rispettare e sono indicati nella tabella che ora andremo a vedere la tabella 1 le prestazioni delle pompe di calore devono essere dichiarate garantite da parte del costruttore devono essere effettuate cioè le prove della pompa di calore devono essere effettuate in conformità a delle norme ora praticamente in questa parte di sviluppo della diciamo delle prove vedrete che ci sono una serie di UNIEN incredibile in questo caso ecco la prova le pompe di calore che deve essere effettuata deve essere in conformità alla UNIEN 14 511 nella sostituzione degli impianti di limalizzazione con impianti dotati di pompe di calore ad altro rendimento accoppiate con sistemi geotermici a bassa entalpia o nella sostituzione appunto degli impianti di limalizzazione invernali con impianti dotati di sistemi ibridi le pompe di calore citate possono essere utilizzate seguendo anche questi valori quindi le pompe di calore in generale elettriche devono seguire i requisiti della tabella 1 come dice sotto le pompe di calore che sono accoppiate ai sistemi geotermici a bassa entalpia o a sistemi ibridi devono seguire la stessa identica tabella e quindi devono avere gli stessi requisiti ecco qua la tabella che determina COP ed ER chiaramente non è O COP O ER devono essere tutti e due lo specifico perché un tempo indietro qualcuno mi ha detto che poteva se poteva essere o l'uno o l'altro chiaramente devono valere entrambi i requisiti vedete nella tipologia di pompa di calore quali sono pozzo freddo e pozzo caldo tipologia quindi tipologia di pompa di calore aria 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 acqua sotto i 35 kilowatt termici quindi potenza utile potenza termica utile in riscaldamento se è maggiore salamo e aria salamo e acqua acqua diciamo che dopo aria meno male diciamo sono tipologie meno meno utilizzate soprattutto salamo e acqua sono particolari però ecco se vogliamo riferirci ad una pompa di calore classica aria aria a secondo dei valori per i quali la UNIEN obbliga di fare le prove quindi avere quel tipo di coppe di ER la stessa cosa deve fare il costruttore dichiarare coppe di ER a secondo cioè proprio con questa tipologia di obbligo di prove quindi pulbo secco temperatura pulbo secco temperatura pulbo umido eccetera eccetera non ve lo leggo perché non ha molto senso vi ricordo ecco questo che può essere un valore dei valori simpatici dove appunto pompa di calore potremmo intendere tante volte noi diciamo lo split non è esattamente lo split cioè diciamo la tipologia di pompa di calore più utilizzata e quella là magari vediamo più a split però ecco se successivamente lo vediamo con delle applicazioni nei dati tecnici della pompa di calore che andiamo a installare ecco tendiamo per avere la possibilità di portare in detrazione la pompa di calore di scegliere per esempio in questo caso pompe di calore con cop superiore a 3,9 con R superiore a 4 questi qua sono invece i requisiti delle pompe di calore a gas meno sicuramente meno utilizzate però il V ecco appunto qui bisogna rispettare il valore di V gas utilization e efficiency per le pompe di calore a gas appunto deve essere rispettante la tabella 2 che andiamo a vedere la tabella è pressoché simile a quella vista precedentemente per le pompe di calore elettriche e abbiamo i riferimenti del diciamo del rendimento dell'efficienza energetica delle pompe di calore a gas per esempio aria appunto abbiamo 1 e 46 ci sono dei piccoli rimandi che vengono posti al di sotto per esempio l'aria aria dice per i soli sistemi di rooftop il 2 minimo è pari a 1 e 2 quindi se utilizziamo delle pompe di calore a gas di tipo rooftop chiaramente aria aria il valore minimo non sarà 1 e 46 ma sarà 1 e 2 in questo caso leggo un messaggio c'è scritto gli split in che categoria rientrano gli split rientrano nella categoria delle delle pompe di calore se lo split cioè se lo split è uno split a pompa di calore se fa soltanto freddo comunque se non è a pompa di calore ormai diciamo non ce ne sono gli split non a pompa di calore però lo split singolo può rientrare chiaramente nella categoria delle pompe di calore comunque dopo vedremo vi farò vedere uno split singolo un multisplit un vrf quindi possiamo vedere alcune cose sempre per quanto riguarda l'allegato f e qua possiamo vedere alcuni requisiti appunto delle pompe di calore sono i requisiti di prestazione la prestazione deve essere sempre appunto dichiarata e garantita dal costruttore come dicevo della pompa di calore sulla base di parole effettuate in conformità delle norme delle seguenti norme che vengono riportate successivamente restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime questo è un altro elemento che ho posto in diciamo in rosso per far capire che le prestazioni devono essere dichiarate garantite dal costruttore e quando si fanno le prove secondo le normative le pompe di calore devono essere funzionanti a pieno regime appunto nelle condizioni di tabella 1 e tabella 2 che abbiamo visto e devono rispettare le uniemne 12309 2015 per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento e la uniemne 1605 invece per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico inoltre a secondo della tipologia di pompa di calore è obbligatorio appunto rispettare alcuni parametri di emissioni in atmosfera e abbiamo tre tipologie pompa di calore a gas ad assorbimento con emissioni in atmosfera di ossidi di azoto inferiore a 120 milligrammi per kilowatt per kilowattora per kilowattora pompa di calore a gas con motore a combustione interna con emissioni in atmosfera di ossidi di azoto inferiore a 240 milligrammi sempre per kilowattora pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità quindi inverter altra tipologia abbiamo i valori dei pertinenti in tabella 1 e 2 devono essere ridotti del 5 per cento quindi questi sono valori tra virgolette che a seconda del tipo di pompa di calore che dovete utilizzare cioè è tutto tra virgolette tabellato o scritto in normativa come bisogna agire o quali valori bisogna avere come fissi affinché tutto venga tutti i costi vengano detratti passiamo all'allegato G cioè i requisiti degli impianti degli apparecchi a biomassa anche questo un altro mondo diciamo che si sta sviluppando soprattutto in alcune tipologie di appartamenti l'accesso alle detrazioni per i generatori di calore alimentati a biomassa è subordinato ad alcune cose e chiaramente deve rispettare il ricepimento appunto degli ambiti del piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria perché se no diciamo non non agiamo non agiamo in maniera energeticamente costruttiva infatti i requisiti affinché le pompe di calore affinché scusatemi gli impianti e apparecchi a biomassa possano diciamo accedere alla detrazione quindi devono rientrare in questo piano di azione per il rigeneramento della qualità dell'aria devono possiamo fare una sostituzione di altro impianto a biomassa quindi se esisteva già un'impianto a biomassa lo possiamo sostituire e quindi possiamo arrivare al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità quattro stelle o superiore quindi possiamo arrivare alla classe di qualità quattro stelle o superiore secondo il decreto sempre del ministero dell'ambiente del 7 novembre 2017 numero 186 in tutti gli altri casi quindi nel caso in cui invece di sostituire un'impianto a biomassa l'impianto a biomassa non ce l'avevamo quindi lo installiamo ex novo il conseguimento bisogna arrivare al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle sempre diciamo rispettando il medesimo decreto descritto precedentemente per gli impianti e gli apparecchi a biomassa l'accesso alla detrazione è consentito sempre a secondo se rientrano e hanno certi soddisfano alcuni requisiti quindi impianti e apparecchi a biomassa caldaia a biomassa di potenza termica nominale inferiore uguale a 500 kilowatt termici ok primo devono avere certificazione di organismo accreditato che attesti la conformità alla norma 1 EN 303-5 classe 5 la 303-5 non fa altro che descrivere non so se la conoscete o l'avete vista diciamo io l'ho l'ho vista gli ho dato un'occhiata anche perché sono ripeto impianti che utilizzo poco o meglio pochi clienti mi richiedono impianti di questo tipo di caldaia a biomassa o cose di questo genere però la 1 EN 303-5 non fa altro che descrivere tutte le tipologie delle caldaia a biomassa e da tutti i requisiti che ora andiamo a vedere perché vengono ripresi appunto dal decreto attuativo infatti obbligo di installazione di sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue e infatti nel caso in cui abbiamo delle caldaie con alimentazione manuale del combustibile bisogna riferirsi sempre alla norma N303-5 ed è descritto diciamo in maniera abbastanza puntuale a secondo della tipologia di installazione di caldaia per le caldaie ad alimentazione automatica del combustibile si prevede un volume di accumulo non inferiore a 20 decimetri cubi per kilowatt termico per le caldaie invece automatiche a pellet ecco anche questo è un elemento che ci deve fare pensare quanto diciamo si vuole si vuole tentare di raggiungere delle raggiungere delle dei requisiti dei requisiti energetici particolari le caldaie automatiche a pellet prevedono comunque un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento secondo quanto indicato dal costruttore e dal progettista quindi si tenta di minimizzare questi cicli di accensione e spegnimento in maniera tale che con le compensazioni del carico queste macchine continuano a funzionare in maniera costante senza emettere anche in aria o comunque evitare gli sprechi energetici ulteriori requisiti il combustibile che viene utilizzato per le caldaie a biomassa o comunque per gli apparecchi a biomassa per l'impianto a biomassa deve essere certificato da organismo di certificazione accreditato che ne verifichi la conformità secondo la UNI la norma UNI-N ISO 17 225 inclusi il rispetto delle condizioni in vista dell'allegato 10 e poi la disciplina dei combustibili allegato 10 parte seconda sezione quarta paracafo 1 lettera D cioè dall'allegato 10 alla parte quinta che invece è le norme in materia di tutela dell'aria e di tutela dell'emissione atmosfera non so se notate che tutto quello che ha a che fare con la biomassa o comunque con questo o con le caldaie appunto a gas ha sempre a che fare con le emissioni in atmosfera quindi la disciplina dei combustibili in questo caso e le norme in materia appunto di tutela o di qualità dell'aria del decreto appunto legislativo 152 del 2006 nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato costruito collaudato oppure pellet appartenente a classi di diciamo di qualità superiore a quella per cui è stato appunto certificato collaudato e costruito è chiaro che in tutti i casi la documentazione fiscale quindi ecco questo serve per quello che succederà subito dopo cioè questi sono tutti dei requisiti tecnici nel momento in cui appunto si basta la parte fiscale dice in tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità quindi tutto certificato tutto meticolosamente diciamo catalogato la classe di qualità il codice di identificazione lasciato all'organismo il produttore del pellet eccetera eccetera e vabbè sotto c'è scritto appunto che possono essere utilizzate anche biomasse combustibili diciamo altre biomasse combustibili per purché rientranti in quella legata cioè nella disciplina dei combustibili o comunque nelle norme in materia di tutela dell'aria e delle riduzioni di emissioni in atmosfera analizzando tre tipologie di apparecchiature stufe e termocamini a pelle termocamini a legna e stufe a legna questi tre tipologie di impianti o comunque di impianti di apparecchiature devono sia le stufe e termocamini a pelle sia i termocamini a legna sia le stufe a legna avere certificazioni di organismo accreditato che attesti rispettivamente la conformità delle norme unienne 14785 per le prime unienne 13229 per le seconde unienne 13240 per le terze il pellet utilizzato deve essere certificato ripetiamo sempre come anche per questo per le stufe per i termocamini a pelle il pellet deve essere certificato e deve essere diciamo la certificazione deve essere conformita alla norma unienne iso 17 235 2 incluso il rispetto delle condizioni sempre previste da quella legato 10 e dalla parte 5 per quanto riguarda quindi questo per quanto riguarda le stufe e termocamini a pelle per quanto riguarda la legna anche la legna dei termocamini delle stufe deve essere certificata secondo la stessa norma unienne vista primo iso 17 225 5 in questo caso quello 2 per il pellet 5 per la legna possono essere altresì utilizzate biomasse combustibili per quanto devono essere indicate all'interno sempre dello stesso allegato della stessa parte 5 vista precedentemente finito l'allegato G si passa all'allegato H cioè quello degli impianti solari termici o a collettori solari si può detrarre chiaramente pure l'installazione di pannelli solari l'importante è che abbiano cioè seguano certe condizioni quindi soddisfino certi requisiti per quanto riguarda i collettori solari devono essere in possesso delle certificazioni solar K-Mark in alternativa nel caso in cui gli impianti solari termici sono prefabbricati quindi tipo factory made cioè belli e pronti non diciamo uniti da vari elementi non fatti dalla stessa azienda che vende il prodotto ma in questo caso possono essere prefabbricati in unico elemento la certificazione di cui al punto a quella vista precedentemente relativa al collettore può essere sostituita dalla certificazione solar K-Mark per tutto il sistema quindi quella per i collettori solari nel caso in cui si utilizzano solo i collettori solari devono essere solo K-Mark l'altra nel caso in cui si utilizzano dei sistemi prefabbricati allora deve essere solo K-Mark per tutto il sistema i collettori solari devono avere dei valori di producibilità specifica che si esprime ben sappiamo in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie Lord Arg per una temperatura media di funzionamento di 50 gradi centigradi superiore ai seguenti valori minimi nel caso di collettori piani maggiori di 300 kilowatt termici per metro quadro anno c'è praticamente un riferimento dove vengono fatte praticamente le prove un riferimento di questa località a Gussburg che è in Germania nel caso di collettori sotto vuoto e collettori a tubi evacuati maggiori di 400 kilowatt termici per metro quadro anno sempre in riferimento alla stessa località invece nel caso di collettori a concentrazione maggiore di 550 kilowatt termici per metro quadro anno con riferimento alla località di Atene in questo caso per gli impianti solari termici prefabbricati quindi parliamo appunto di quelli factory made per per i quali è applicabile solamente la Uni EN 12 976 la producibilità specifica che non è altro che l'energia solare hanno prodotto a quelle per unità di superficie lorda a misurata secondo la norma quella vista prima però due quindi Uni EN 12 976 2 deve essere maggiore di 400 kilowatt termici per metro quadro anno con riferimento sempre alla località della Germania per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile avere l'ottenimento della certificazione solar K-Mark la certificazione viene sostituita da un'approvazione della tecnica rilasciata dall'Enea in questo caso è l'Enea che entra direttamente in gioco nel caso di collettori solari dotati di protezione comunicativa all'accesso della radiazione solare anche questa non è possibile avere la certificazione solar K-Mark e quindi viene sostituita con l'approvazione tecnica rilasciata dall'Enea però i valori di producibilità di cui appunto al punto C sono ridotti del 10% allegato a dunque questo vale per quanto riguarda gli interventi di sostituzione di alimentizzazione con impianti dotati di micro con generatori quindi questo vale per quanto riguarda la micro con generazione anche questa abbiamo detto è ammessa all'incentivazione deve seguire deve soddisfare dei requisiti quali sono questi requisiti l'intervento di sostituzione dell'impianto di alimentizzazione infertale sulla base dei dati di progetto deve condurre necessariamente un risparmio di energia primaria PES come definito dall'allegato 3 dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pari almeno al 20% quindi ci sono delle regole chiare di risparmio energetico che deve apportare la sostituzione dell'impianto di climatizzazione infernale con l'impianto di micro con generazione tutta l'energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria questa cosa ricorda che ora lo andremo a vedere ricorda un po' quello che succede per quanto riguarda il fotovoltaico sotto forma di energie elettriche chiaramente e la dichiarazione del fornitore dell'unità della micro con generazione deve riportare prestazioni energetiche scomentazioni evidenzia deve evidenziare l'assenza di dissipazioni termiche variazioni di carico regolazione della potenza elettrica cioè una serie di elementi che non fanno altro che incidere sul rendimento e quindi sull'efficienza della macchina di micro con generazione e queste devono essere dichiarate dal fornitore interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali appunto abbiamo detto che lo scaldacqua tradizionale può essere sostituito con lo scaldacqua a pompa di calore il fornitore deve sempre dichiarare oppure si deve vincere la documentazione è un elemento fondamentale anche qui essendo una macchina che funziona secondo il ciclo della pompa di calore chiaramente anche questa deve avere un cop e il cop come vedete deve essere superiore a 2,6 è chiaro che vi farò vedere appunto un elemento uno scaldacqua a pompa di calore che ha un rendimento sicuramente superiore quindi lo scaldacqua tradizionale può essere sostituito da questa nuova ormai non più tanto nuova però nuova tecnologia installazione di sistemi di building automation o allora nel caso di sistemi di installazione di sistemi di building automation nelle unità abitative e il controllo della climatizzazione questi devono essere dotati ovviamente di toni a documentazione prodotta dal fornitore che specifichi la tecnologia possa specificare la tecnologia che la strumentazione applicata afferisce alla tecnologia di almeno di classe B che è la classe avanzata ci sono una serie di classi che si è andata a controllare la norma la norma unie cioè la norma M15 232 potete vedere che la classe B praticamente è la classe definita avanzata quindi infatti la norma viene detta incidenza dell'automazione della regolazione della gestione tecnica degli edifici la gestione quindi la gestione automatizzata quindi personalizzata dei sistemi di building automation cosa deve cosa deve apportare cosa deve dare come miglioria deve mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fortuitura periodica di dati deve mostrare le condizioni di funzionamento corrente e la temperatura di regolazione degli impianti e deve consentire l'accensione lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto quindi questi sono i requisiti che un sistema di building automation applicato che può essere detratto deve avere tecnologia che afferisce alla classe B avanzata rispetto alla norma 15 e dare quei valori e dare quei dati elencati consumi energetici condizioni di funzionamento attuali e temperatura di regolazione accensione spegnimento e programmazione settimanale dell'impianto da remoto passiamo all'installazione degli impianti fotovoltaici e le ricariche elettriche ormai siamo quasi in dirittura d'arrivo quindi ci avremo un altro quarto d'ora come vi dicevo il super bonus appunto si applica anche agli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete e ai sistemi di accumulo che possono essere integrati e quindi agevolati sia nell'installazione contestuale dell'impianto sia successivamente all'installazione dell'impianto stesso sono incentivabili gli impianti se l'installazione dell'impianto stesso è eseguita congiuntamente ad un intervento chiaramente trainante e se si cede al GSE l'intera energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo quindi se nelle tipiche diciamo nelle tipiche nei tipici contratti di scambio sul posto l'energia in eccesso si ributta in rete ma viene tipicamente rivagata anche se pochissimo non viene rivagata in questo caso l'energia non autoconsumata deve essere ceduta al GSE gratuitamente la potenza installabile quindi la potenza installabile se si vuole ragionare in diciamo in funzione della spesa massima la spesa massima incentivata è di 48 mila euro quindi complessivamente non si può spendere più di 48 mila euro per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico se si dovesse avere delle diciamo delle superfici così grandi da riuscire addirittura a installare un impianto ancora più grande però bisogna stare attenti chiaramente che superati i 20 kilowatt si rientra nelle officine elettriche e c'è una delle procedure diciamo un po' più articolate nel caso in cui invece chimicamente abbiamo un tetto inclinato un tetto a falde un tetto piano di superficie normale e quindi dove possiamo installare 3, 4, 5, 6 kilowatt la spesa massima per kilowatt di potenza ordinare è praticamente 2.400 euro appunto a kilowatt come detto precedentemente sempre per quanto riguarda gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici per quanto riguarda dunque mi è arrivato un messaggio Antonio Minutoli termino e poi magari lo vediamo insieme ok perché se no non termino la diciamo la spiegazione niente di che un partecipante alla conferenza mi manda un messaggio dove richiede esattamente qual è l'articolo quindi niente di particolare poi successivamente o lo vediamo tutti insieme o lo determino insieme in privato dicevo per quanto riguarda invece l'intervento gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici ricadenti descritti dall'articolo 3,1 lettera D e F del DPR del 180 del 2001 nonché ristrutturazione edilizia di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica la spesa massima ammissibile non è più di 2.400 euro ma di 1.600 euro per kilowatt di potenza installata inoltre la detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici e per installazione di impianti fino a 200 kilowatt da parte di comunità energetiche costituite come sottoforme non commerciali o in condomini il super bonus si applica fino a un massimo di potenza di 20 kilowatt per quanto riguarda invece l'installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici anche questa qui è incentivata per quanto riguarda appunto gli edifici e quant'altro ed è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a 3.000 euro appunto portata fino al 110% questo è questo è tutto lo stato dell'arte per quanto riguarda sia la parte diciamo normativa sia la parte di sviluppo e discussione del decreto attuativo del Pise qui ecco nelle prossime ecco dieci slide faccio degli esempi faccio un esempio di appunto un caso studio di rivestimento con cappotto termico e poi vediamo qualche tipologia di pompa di calore o di altro elemento che può essere utilizzato dopodiché sicuramente Wurt i colleghi di Wurt faranno l'altra parte proprio sulla parte dei materiali vede e propri e allora diciamo in questo caso ho voluto analizzare un intervento di cappotto termico per un fabbricato condominiale dove la procedura diciamo ormai penso sia più o meno chiara quella di una valutazione di una fase di rilievo di una fase di rilievo iniziale di studio analitico delle caratteristiche dimensionali e costruttive di tutto l'organismo edilizio quindi una fase anterealizzazione che deve essere chiaramente di verifica urbanistica e di diciamo bisogna dare quindi con le asseverazioni da parte di un esperto del campo bisogna andare a verificare che tutto lo stabile e poi diciamo gli eventuali appartamenti gli eventuali immobili che vogliono partecipare ad applicazioni singole diciamo che tutto sia asseverabile dopo che c'è il processo chiaramente di calcolo cioè l'APE il redigere e verificare l'APE prima dei lavori quindi la parte iniziale oggi quando è stata fatta diciamo la scorsa lezione l'APE convenzionale ancora era in fase di studio oggi l'APE convenzionale l'APE convenzionale pausa sì tra poco tra poco pausa dieci minuti e facciamo pausa cinque minuti e facciamo pausa dicevo ancora non era stata sviluppata quindi la verifica o redigere l'APE prima dei lavori la legge dieci per quanto riguarda l'intervento tutto l'imbolgo edilizio o comunque per quanto riguarda le singole i singoli appartamenti in questo caso vi faccio vedere e chiaramente nello svolgimento della legge dieci il raggiungimento del superamento delle due classi energetiche chiaramente perché se no non ho comunque il massimo il conseguimento della massima classe energetica per quanto riguarda le strutture cosa ho applicato ho applicato ad un l'aderizio forato di spessore di 32 cm un rivestimento con un pannello in polistireno espanso sintetizzato EPS di 10 cm che ha certe caratteristiche certificazione ambientale di prodotto NDP che rende l'astritonia per l'utilizzo per gli edifici di nuova di riedificazione comunque per edifici esistenti nuova costruzione o esistenti conforme ai criteri ambientali minimi del CAM che può essere applicato per quanto riguarda il 110 il valore di lambda del pannello quindi di conducibilità che rappresenta appunto la conducibilità termica infatti su metro quadro per kelvin basso in maniera che ci sia un'ottima coinventazione forno assorbente leggero diciamo poi altri requisiti che possono sicuramente essere di buon utilizzo del prodotto e poi il possesso della marcatura c'è conforme ai requisiti delle punto norme UNIEN 13163 e UNIEN 13499 con un calcolo che velocemente non vi faccio ma vi faccio vedere soltanto i risultati vedete questo vedete la muratura abbiamo 15 mm di tonaco 320 mm di 32 cm di mattoni pieni di mattoni dopodiché il pannello in EPS di 100 mm di 10 cm e il resto di tonaco cosa abbiamo come cosa abbiamo come risultato una trasmittanza U di 0,2439 watt sul metro quadro per kelvin sicuramente verificata rispetto ai decreti al decreto del mese e quindi per quanto riguarda le trasmittanze delle superfici opache che dovrebbe essere inferiore a 0,38 come abbiamo visto precedentemente questo non è altro che un pannello generico è stato utilizzato e questi sono i valori di trasmittanza T che viene riportato a poi sotto T di trasmittanza di 0,36 per il pannello utilizzato questo è il data sheet del pannello questi sono altri valori che diciamo che possono essere utilizzati per quanto riguarda l'utilizzo appunto dei pannelli isolanti quali sono gli adempimenti che deve il progettista che deve fare il progettista che ha proprio per le certificazioni dei materiali il progettista deve avere una specificazione specifica documentazione tecnica che deve essere a supporto delle capacità isolanti del materiale appunto dei materiali di progetto con le schede tecniche e quant'altro il progettista deve attestare e quantificare la presenza e la quantità in peso di materiali isolanti contenenti materia riciclata recuperata e quali sono i cioè come si applicano secondo il camera si applicano con avendo delle dichiarazioni una dichiarazione ambientale di prodotto di tipo 3 e di P e PD scusate conforme alla UNI N15 804 e alla norma ISO 14 025 come EPD Italy o equivalenti o una certificazione di prodotto rilasciata da organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato praticamente attraverso l'esplicazione del bilancio della massa quindi vedete quale tra virgolette quanti sono e quali sono le dichiarazioni e le certificazioni che bisogna produrre e quindi anche diciamo la complessità che meglio più che la complessità l'attenzione che bisogna portare a questa tipologia di intervento e una certificazione di prodotto rilasciata sempre dall'organismo di valutazione della conformità che attesta il contenuto di riciclato attraverso l'esplicazione del bilancio della massa che consiste nella verifica e la dichiarazione ambientale autocertificata quindi dichiarare inoltre che c'è diciamo l'assenza di sostanze tossiche o potenzialmente tossiche detto questo questo lo faccio veramente velocemente non vi faccio perdere altro tempo sono un paio di esempi che ho portato il per esempio l'utilizzo chiaramente la villa in figura non credo per niente nel 110 come sapete però è l'utilizzo che facciamo che veramente non facciamo poche volte di quello che sono i detti verdi il tetto verde è un tetto che per sua chiaramente la sua filosofia di utilizzo deve rispettare i requisiti minimi descritti dal Vietro 266 2015 e quindi la legge impone dei controlli sulle prestazioni energetiche invernali e estive quindi è un tetto a tutti gli effetti che è verificato da tutte le tipologie di normative qui potete vedere una stratigrafia di un tetto di un tetto verde che potete notare dal basso verso l'alto elemento portante strato 12 da 12 verso su elemento portante strato di pendenza stato di barriera al vapore elemento termoisolante elemento di tenuta cioè da qui potete notare oltre alla specifica sezione in questo caso di un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche ma potete notare qual è la complessità e la particolare conformazione stratografica di un tetto di un tetto verde quindi sicuramente ha delle ottime risposte e la risposta la possiamo vedere qui la risposta è data da un da un confronto tra una copertura verde e una copertura piana secondo questi dati cioè tipo di analisi simulazione dinamica secondo le uni secondo la uni n iso 13 786 periodo simulato 24 ore del giorno tipico estivo clima dati climatici esterni di trevenzuolo che è vicino verona in accordo con la uni 10349 temperatura esterna di 26 gradi e le stratigrafie confrontate di un tetto a verde ESTD uno standard una copertura piana tradizionale andiamo a vedere quali sono i dati velocemente beh vediamo una copertura verde di 38 centimetri di spessore contro 22,8 questa è l'unica differenza diciamo che la copertura verde è più spessa rispetto alla copertura tradizionale ma mi sembra anche logico però se notate trasmittanza termica più bassa 0,15 8 0,171 0,58 0,171 il peso per metro quadro è inferiore 108 contro 124 l'assorbimento solare 0,3 rispetto a 1,06 inoltre l'oscillazione termica che possiamo notare sulla superficie possiamo avere cioè abbiamo delle temperature registrate di massimo 50 gradi per quanto riguarda la copertura verde 70 gradi per la copertura in calcestruzzo la profondità e questo qui è un altro elemento incredibile la profondità di temperatura dell'onda termica è 14 centimetri contro 24,7 quindi anche anche questo ci determina quanto malgrado una trasmittanza termica così bassa possiamo avere la trasmissione del calore all'interno energia entrante nelle 24 ore come ben notate 101,3 chilo joule su metro quadro contro 218 cioè una copertura verde si nota che è effettivamente una copertura molto più performante dal punto di vista termico questa invece cosa è quella è in con elemento portante tradizionale questo è un elemento portante in pannello di roccia o in poliuretano poi la stratigrafia è simile anche le trasmittanze sono abbastanza basse velocemente a questo punto rispondo a precedentemente a una domanda pompa di calore residenziali aerea monosplit classica i classici monosplit che abbiamo in tutti i nostri appartamenti valori verificare i valori di cop e di er come vedete 5,52 5,15 5,4,27 4,05 3,62 queste tre macchine per esempio rientrano nell'incentivazione del 110 multisplit sistemi che possiamo utilizzare anche in casa dual trial o quant'altro come potete notare unità interne 2,2,2 da 2 a 3 da 2 a 3 cop ed erwe 4,4 3,88 5,11 ecc e non direbbe ve li leggo anche queste sono macchine che rientrano nel panorama del 110 VRF aria aria macchine un po' più performanti macchine con tipologia che sicuramente conoscete più evoluta anche queste potete valutare cop ed er a seconda della tipologia di macchina scaldabagna a pompa di calore e si vede esteticamente sembra uno scaldabagno classico peccato che ha o on board o esterno c'ha una una macchina appunto a pompa di calore che gestisce il tutto in maniera totalmente diversa rispetto al vecchio sistema degli scaldacqua il cop come vedete qui ce ne sono due poi qua non si vede bene ci sono due o tre stelle a seconda della temperatura esterna ma il cop come potete vedere è superiore a 2,6 come precedentemente detto dalla normativa con questo io ho terminato ho fatto una carrellata veloce di tutto quello che è il panorama dei materiali visti dal punto di vista della normativa e del decreto e degli impianti a questo punto non so se c'è scusatemi un attimo che ora vediamo Simona non so se c'è Simona sono le 5 meno 10 io a questo punto farei una cosa farei una pausa se voi siete d'accordo qualcuno mi risponda ci sono delle domande ma credo che queste qua facciamo una cosa forse è meglio lasciarle per dopo non lo so ditemi voi io sono disponibile sia a rispondere alle domande sia a fare una pausa siccome qualcuno mi chiedeva pausa non lo so qualcuno o qualcuno apre il microfono o va beh e allora facciamo così decido io non c'è nessuno facciamo così così contatto anche i colleghi di WURT che attualmente non vedo le domande ingegnere se vuole io sono qui ah perfetto ingegnere io sono qui infatti c'è pure Carlo quindi non lo so ok ci siete tutti perfetto benissimo no perché non vi vedevo perché chiaramente ero intento a fare a declamare le slide allora io farei questo se voi siete d'accordo c'è qualche domanda magari nella pausa facciamo una pausa io allora io leggo le domande all'inizio diciamo 5 come diceva il presidente per voi va bene 5 e 30 17 e 30 per me va bene non c'è problema sono io il prossimo quindi ok perfetto allora perfetto allora facciamo così io do un'occhiata a queste due domande ci rivediamo alle magari 17 e 20 rispondo a queste due domande e poi partite voi con le vostre relazioni va bene d'accordo va bene ok e allora a più tardi a più tardi a dopo a dopo un'occhiata a ho un'occhiata a un'occhiata Grazie a tutti. 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 ok io tento di togliere la condivisione per quanto ho sentito la collega e la tutor però mi ha detto che era un attimo fuori tra qualche minuto darà toglierà a me diciamo la parte di relatore e la al primo di voi che dovrà parlare va bene ok dico bene ingegnere carlo iervolino sono io sì perfetto va bene va benissimo ok no io invece volevo rispondere a qualcosa perché ho letto il collega edoardo ardiri scrive è possibile installare un termocamino in abbinamento ad un impianto di climatizzazione esistente con caldea condensazione invece della completa sostituzione l'impianto esistente e fino a qua è sì la risposta chiaramente per quanto riguarda invece facendoli funzionare in modo alternato non so cosa si intende per modo alternato ma ritengo che la norma dica sempre in impianti ibridi che devono lavorare in modo sinergico quindi non credo che un giorno cioè ripeto non so neanche con quale modalità perché io con con la caldaia condensazione posso fare riscaldamento ambiente e acqua calda sanitaria e col cammino col termocamino posso fare la stessa identica cosa non so cosa si intende per modo alternato cioè cosa fare con uno piuttosto che con l'altro comunque si tratta sì sì ho visto degli impianti che magari bloccando bloccando una dispositiva sempre la caldaia condensazione e poi mettere nel circuito soltanto l'acqua che viene riscaldata dal termocamino in una giornata magari il giorno dopo se uno decide di fare funzionare la caldaia condensazione girando una leva si mette si mettono sempre negli stessi radiatori l'acqua invece riscaldata dalla caldaia condensazione capito quindi praticamente gli impianti sono tutti e due funzionanti sia per acqua calda sanitaria sia per riscaldamento ambienti sì 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 cioè in sostanza il problema nasce ma non c'è parte di questi appartamenti sono già dotati di caldaia condensazione sarebbe un peccato magari caldaie che ancora hanno due tre anni di vita a sostituirle completamente eh lo so ma infatti la norma lo specifica cioè proprio l'abbiamo letto poco fa dicendo che si possono sostituire o integrare quindi il problema dell'integrazione non sussiste il discorso è che più di una volta abbiamo letto che gli impianti ibridi perché questo qua rientra in un impianto ibrido devono funzionare in maniera non alternata ma in maniera sinergica quindi ritengo che la prima parte per me è sì assolutamente la seconda cioè facendoli funzionare in maniera in modo alternativo per secondo me no secondo me devono funzionare in maniera sinergica come avviene nella pratica eh ma questo già è una cosa già da studiare in maniera un po diversa perché un sistema che sinergicamente funziona cioè che ha un termo cammino e una caldaia a condensazione che funzionano sia per fare acqua calda sanitaria che per fare riscaldamento diciamo che facendoli funzionare in maniera sinergica sia uno che l'altro per eh fare diciamo entrambi i riscaldamenti devono essere messi in modo tale che uno sia prevalente rispetto all'altro e l'altro sfrutti il calore di quello precedente per far sì che l'energia eh sprecata praticamente sia minima mi spiego immaginiamoci piuttosto che un termo cammino un solare termico e una caldaia a condensazione piuttosto che fare eh il solare termico solo per acqua calda sanitaria o per riscaldamento che già sarebbe abbastanza complesso sfruttare l'acqua che viene riscaldata dal solare termico per far sì che è entrata nell'acqua esattamente quindi questo è un lavoro sinergico capisci che quello quello che intendo sì ecco si può tenere in ingresso sull'acqua fredda della caldaia a condensazione esatto per esempio per esempio utilizzare il termo cammino per riscaldare l'acqua in maniera tale che poi quest'acqua passando eh eh all'ingresso della della caldaia a condensazione la caldaia non abbia l'acqua a dieci gradi per esempio dico per dire dodici quindici cinque sette ma un'acqua sicuramente ad una temperatura nettamente più alta quindi il dispendio energetico nel portare l'acqua alla temperatura adeguata per la circolazione all'interno dei radiatori sicuramente è nettamente inferiore rispetto a quello che dovrebbe esserci nel momento in cui eh l'acqua arriva a temperatura nettamente inferiore. E questa cosa si potrebbe fare con le unità idroniche quindi no? Certamente certamente anche con le unità idroniche infatti mi lego alla successiva oppure è possibile sostituire l'impianto di riscaldamento esistente costituito da caldaia a condensazione con pompa di calore abbinandolo a un termogamino sicuramente sicuramente però anche questo diciamo deve lavorare in maniera eh eh sinergica quindi eh invece mettendo le pompe aggiungendo le pompe quindi integrando le pompe di calore alla caldaia di condensazione funzionerebbe con due sistemi a pompe di calore aria aria invece poi si può fare anche questo. Anche questo qua è un sistema che è possibile integrare. Quindi la pompe di calore funzionerebbe aria aria invece al caldaio di condensazione riscaldando l'acqua. Certo riscaldando l'acqua. Dico comunque in ogni caso i moduli idronici che poi alla fine sono delle delle apparecchiature da unire alle pompe di calore per esempio eh eh quindi si può sempre sfruttare eh che ne so la pompa di calore per riscaldamento ambiente e unire il modulo idronico eh per fare l'acqua calda sanitaria o comunque per eh diciamo una volta che c'è la pompa di calore secondo me per quanto tutti dicono che la tipologia di eh di qualità del riscaldamento eh tra la pompa di calore e il radiatore è eh diversa ma solo perché c'è una flussazione di aria che è diversa mentre quella riscalda per convezione eh l'aria quindi un altro che movimento chiaramente cioè la riscalda e si creano dei modi convettivi la pompa di calore è giustamente in flussa aria eh e chiaramente si sente questa specie di vento questa cosa che chiaramente non eh si crede che non sia lo stesso diciamo un riscaldamento adeguato e però ecco tornando al discorso della pompa di calore eh e del del termocamino secondo me può andare bene come possono andare anche i modi idronici. E un'ultima cosa un'ultima domanda ho visto che si parla di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con gli impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento, fornitura d'acqua sanitaria sulle parti comuni degli edifici nel caso dei condomini. Quali potrebbero essere? Scusatemi sono un attimo, no scusa mi sono Simona. Io ti interrompo solo un attimo perché volevo sapere chi ti eh chi ci sarà dopo di te in modo da poter dare a lui il ruolo di relatore? Io Carlo Iervolino. Esatto. Carlo? Sì. Ok. Perfetto. Allora eh Carlo ti intanto ti assegno il ruolo di relatore. Eh così Nino continua con le domande. Scusatemi. Oggi è andata così. Va bene va bene ma in qualche modo ce la facciamo. Ok. 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 Sì. Credo che non si veda più il mio monitor giusto? Ancora si vede sto dando a Carlo se riesco il ruolo di relatore. Ma il tuo comunque io non lo vedo in questo momento. Ok io l'ho tolto infatti c'è un... allora. Vediamo se riesco. Tonino se vuoi infatti puoi rispondere a una domanda. Eh eh dunque... Eh dunque... Questa sostituzione degli impianti di... Ah sì sì. Degli impianti da sostituire sì sì degli impianti centralizzati per le parti comuni. Sì sì no dice di di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati su parti comuni. Suppongo potrebbe essere che cosa? I vani scala? Cosa potrebbero essere queste parti comuni? Ma allora intanto la normativa non prevede in effetti il riscaldamento del vano scala. Eh quindi... E allora queste parti comuni cosa sono? Cosa consistono? Allora eh la la cosa che abbiamo un po' tirato fuori ma al solito è tutto in evoluzione nel senso che come ho detto all'inizio eh 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 praticamente viene sempre viene sempre non variato ma dato sempre maggiori spiegazioni alle frasi poco chiare che hanno scritto lungo lungo questo eh escursus del centodieci. Praticamente da quello che abbiamo potuto intuire nell'azione trainante quindi sostituzione di impianto di climatizzazione nell'azione trainante e se non si dovesse fare il cappotto termico e si passa alla sostituzione dell'impianto termico dovrebbe essere la sostituzione dell'impianto termico dovrebbe essere globale per l'intera struttura con un impianto centralizzato quindi il concetto è di solito perché poi si passa all'azione trainata con l'efficientamento energetico che riprende tutto quello che c'è nella normativa precedente quindi l'azione trainante generalmente è sempre il cappotto l'azione trainata è tutto quello che viene dopo cioè l'efficientamento energetico sostituzione dell'impianto termico e il fotovoltaico piuttosto che vabbè sostituzione di impianto termico si ingloba tutta una serie di elementi è controverso sicuramente il discorso delle parti comuni dell'edificio secondo ripeto secondo la visione che abbiamo visto ma mi riservo di poter dare ulteriori scusate mi guardavo dall'altro lato ulteriori chiarimenti ripeto questa parte dell'impianto dell'impianto centralizzato riguarda nel caso in cui come azione trainante è appunto la sostituzione dell'impianto dell'impianto termico e allora è necessario obbligatorio cioè se non si fa la sostituzione cioè se non si fa il cappotto termico praticamente come azione trainante e non si può fare il sisma bonus cioè diciamo la parte di parte sismica io non ho tratto perché sconosco e se l'unica è questa allora bisognerebbe agire sulla parte comune cioè su tutti gli appartamenti ok però ci sono dei casi in cui magari non tutti i condomini sono convinti ma sono certo assolutamente ma infatti ma come si fa perché l'intervento se lo facciamo ad esempio su un terzo solo dei condomini perché con la conversione in legge del decreto costo questo è possibile quindi noi interveniamo con l'intervento trainante solo con la sostituzione ad esempio delle pompe di calore in quegli appartamenti che raggiungono il terzo se gli altri magari non sono d'accordo va bene in questo caso come elemento trainante dovrebbe ripeto dovrebbe andare bene perché se no come dice ripeto cioè se prendiamo il i vari i vari decreti o comunque anche il valdevengum dell'agenzia delle entrate come azione trainante porta proprio la sostituzione dell'impianto termico con impianto centralizzato alle parti comuni dell'edificio questa è la dicitura in effetti quindi ripeto c'è una controversia sicuramente infatti si bypassa tra virgolette sto caos facendo in modo che l'azione trainante sia in tutti i posti il cappotto anche perché noi cappotto tra virgolette volente o nolente non ne abbiamo mai avuto bisogno ma proprio per la temperatura che abbiamo ma oggi per una ristrutturazione uno dice vabbè mettiamo il cappotto e poi le altre azioni le facciamo come singolo come singolo appartamento chi vuole fa chi non vuole non fa nulla un rischio metterlo come intervento trainante se non ci sono dei chiarimenti o sbaglio assolutamente sono d'accordo assolutamente secondo me è un rischio ma infatti tutti quelli che io ho sentito ma nessuno ha messo come trainante la sostituzione dell'impianto termico per questo dico tutti cappotto anche perché il cappotto tra virgolette fa pure le facciate quindi uniamo l'utile al direttevole tra virgolette quindi trainante cappotto e trainate tutte quelle che vogliamo per singolo appartamento trainante e sostituzione dell'impianto termico è pericoloso secondo me grazie di nulla ci mancherebbe velocemente perché se no facciamo una cosa no perché già sono le 17 e 37 mi riservo le altre domande di magari più tardi di rispondere più tardi o comunque commentarle più tardi e lascio al collega la relazione grazie buonasera a tutti io sono carlo iervolino sono un ingegnere di territorio per le regioni campania e molise per l'azienda virtitalia srl non mi dilungo tantissimo nella presentazione che il tempo è a sfavore l'argomento è abbastanza articolato e insomma già ho cercato di comprimere un po tutti gli argomenti in questa trattata in questa presentazione quindi cercherò di non essere di non darvi informazioni inutili e di andare subito al sodo allora che cosa vediamo vediamo facciamo dei cenni sul regolamento sui prodotti a costruzione la marcatura ci è obbligatoria per tutti i prodotti che utilizziamo appunto nelle costruzioni poi parleremo della diagnosi termica della progettazione isolamento termico a cappotto scelta e dimensionamento del fissaggio del cappotto termico e cosa in opera del sistema e dettagli costruttivi nei dettagli costruttivi ho inserito anche i ponti termici che in realtà non sono dei dettagli ma sono una parte molto importante della progettazione però come dicevo prima avendo dovuto comprimere un po tutto l'argomento in una quarantina di slide insomma ho preferito metterlo nella parte dei dettagli costruttivi quindi parliamo del construction products regulation il regolamento sui prodotti da costruzione ha come obiettivo quello di tentare quanto più possibile di armonizzare le norme sui prodotti da costruzione all'interno nell'ambito della comunità europea in modo tale che i prodotti di un paese facente parte della comunità europea possono essere commercializzati anche in tutti gli altri paesi facenti parte della comunità europea al primo articolo del regolamento sui prodotti da costruzione si dice che le costruzioni hanno come requisiti fondamentali quelli di non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni e pertanto all'articolo 2 diciamo è riportato che di conseguenza i prodotti da costruzione devono rispettare anch'essi questi requisiti quindi diciamo il concetto fondamentale è che per poter commercializzare un prodotto da costruzione nell'ambito della comunità europea è necessario che questo sia dotato di marcatura CE e possiamo distinguere due casi un caso in cui i prodotti sono coperti da norme armonizzate diciamo per dirla banalmente le famose N di cui tutti almeno una volta nella vita non hanno sentito parlare e ci sono anche prodotti che non sono coperti da norme armonizzate che non c'è una norma armonizzata che copre l'applicazione di quel prodotto in questo caso l'Unione Europea ha previsto che per questi prodotti non coperti da norme armonizzate sia possibile emettere da parte di un ente detto Technical Assessment Body quindi corpo di valutazione tecnica un documento chiamato EAD European Assessment Document quindi documento di valutazione europea quindi procedendo per questa strada anche quei prodotti da costruzione che non sono coperti da norma armonizzata possono essere possono intraprendere la strada per ottenere la marcatura CE una volta ottenuta la marcatura CE attraverso un processo che vi illustrerò brevemente tra pochissimi istanti il produttore è tenuto a emettere, a fornire agli acquirenti del prodotto un documento chiamato DOP Declaration of Performance quindi dichiarazione di prestazione quindi ogni prodotto dotato di marcatura CE deve essere dotato anche di dichiarazione di prestazione importante è anche dire che tutti i prodotti dotati di marcatura CE che inizialmente quindi vengono sottoposti a una valutazione tecnica in laboratorio devono avere, diciamo, nel tempo devono conservare le proprie caratteristiche per questo motivo ogni anno vabbè, poi diciamo dipende dal livello di verifica della costanza delle prestazioni comunque diciamo che in linea generale ogni anno le fabbriche che producono questi prodotti ricevono un'ispezione da parte di ispettori di enti terzi nominati dall'Unione Europea appunto per verificare che l'azienda applichi degli standard di qualità che consentano al prodotto di essere sempre uguale a quello inviato inizialmente per, diciamo, ai laboratori per la valutazione per l'ottenimento del marchio CE cioè in sostanza devo garantire che chi compra il prodotto compra un prodotto che ha le stesse caratteristiche tecniche di quello che è stato mandato ai laboratori per poi ottenere la certificazione dello stesso quindi ipotizziamo di essere un'azienda che vuole mettere sul mercato un nuovo prodotto da costruzione innanzitutto bisogna capire il prodotto in che ambito rientra ad esempio potrebbe essere un tassello per cappotti quindi, diciamo, individuato l'utilizzo previsto del prodotto la normativa oppure lo European Assessment Document relativo individuano quali sono le caratteristiche essenziali e quindi si va a cercare se c'è una norma di riferimento una norma armonizzata di riferimento che ricopre il prodotto in esame se c'è, ok, si esegue la procedura per l'ottenimento di una valutazione tecnica in base alla norma armonizzata di riferimento banalmente, diciamo, la norma riporterà una serie di test da eseguire sul prodotto perché questo venga qualificato il prodotto viene mandato a un laboratorio terzo un laboratorio accreditato dall'Unione Europea che, diciamo, eseguirà i test previsti dalla norma una volta ottenuto, diciamo, il test report e il certificato del prodotto si può accorre sul prodotto in marzo CE il produttore deve redigere una dichiarazione di prestazione in questo modo il prodotto può essere commercializzato all'interno dell'Unione Europea se non c'è una norma armonizzata ci si rivolge a un tab un Technical Assessment Body di cui vi ho accennato prima e si ottiene un documento sempre passando per un laboratorio terzo chiamato valutazione tecnica europea il famoso ETA di cui European Technical Assessment di cui probabilmente molti di voi già avranno sentito parlare passiamo alla parte di diagnosi termica e progettazione dell'isolamento termico a cappotto allora, le funzioni dell'isolamento termico a cappotto le conosciamo e le ripassiamo rapidamente riduce e consumi e le risorse energetiche necessarie al riscaldamento e raffrescamento degli edifici riduce l'inquinamento atmosferico dovuto all'emissione di gas inquinanti derivanti dai processi di combustione delle fonti energetiche di origine fossile aumenta il benessere e il conforto abitativo ma inoltre riduce i costi e risolve i problemi condenza la formazione delle muffe quindi di salubrità degli ambienti un edificio è normalmente costituito da diversi strati di materiale in grado di offrire una diversa resistenza termica in base alla loro composizione ogni edificio sia esso nuovo sia esso esistente deve rispettare determinate caratteristiche termiche in funzione della zona climatica di appartenenza per esempio vi anticipo che anche questo probabilmente è una informazione che già avete per le superfici opache nella zona di Messina che è zona climatica B complessivamente questi non devono avere una trasmittanza superiore a 0,38 watt metro quadro kelvin quindi i parametri da tenere in considerazione nel calcolo nel dimensionamento di un sistema di isolamento a cappotto sono condiciabilità termica che l'attitudine del materiale a trasmettere calore si misura in watt a metro kelvin la resistenza termica che si misura in metro quadro kelvin su watt è definita come lo spessore del materiale che stiamo considerando diviso la sua conducibilità termica infine la trasmittanza che si valuta in watt a metro quadro kelvin è la grandezza fisica che misura la quantità di calore scambiato da un materiale o un corpo per unità di superficie e unità di temperatura queste sono banalmente le formulette ovvero quello che ho appena detto riportato in formule tenete conto che nel calcolo della resistenza totale di una parete ad esempio composta da strati materiali diversi ci sono altri due parametri da considerare che sono le resistenze liminari ovvero le resistenze superficiali interna ed esterna della parete quella interna principalmente dipende dalla direzione del flusso termico mentre quella esterna dipende anche dalla velocità del vento semplicemente la trasmittanza può essere valutata come l'inverso della resistenza totale come vi ho anticipato la normativa il decreto per il super bonus del 110% ci indica per ogni componente dell'edificio quindi superficie opache trasparente eccetera quali sono i valori limiti di trasmittanza che dobbiamo rispettare nel caso specifico di Messina come vi dicevo prima siamo nella zona climatica B e quindi non dobbiamo superare una trasmittanza di 0,38 watt metro quadro kelvin facciamo un banale esempio giusto per buttare giù due numeri e per vedere che poi diciamo la progettazione almeno il primo approccio alla progettazione un predimensionamento del sistema termico di isolamento a cappotto è un problema almeno dal punto di vista matematico abbastanza semplice consideriamo una parete costituita semplicemente da due strati di intonaco uno esterno uno interno e uno strato di mattoni frati allora siamo a Messina la zona climatica B ci viene richiesta una trasmittanza di inferiore o uguale a 0,38 watt metro quadro kelvin utilizzando le formule quelle semplici formulette che vi ho rappresentato poco fa è possibile porre come incognita lo spessore e la conducibilità termica del materiale che dobbiamo aggiungere per raggiungere scusate il gioco di parole la trasmittanza di 0,38 watt metro quadro kelvin quindi ipotizziamo di voler raggiungere proprio 0,38 watt metro quadro kelvin quindi quel segno di disuguaglianza diciamo segno di uguaglianza alle resistenze di ciascuno strato andiamo a aggiungere la resistenza del nostro strato incognito quindi come il rapporto tra lo spessore dello strato e la sua conducibilità a questo punto però qualcuno potrebbe dire sì abbiamo un'equazione e due incognite ma semplicemente possiamo fissare uno dei due parametri incogniti ad esempio proviamo sul mercato un pannello isolante che ha una trasmittanza di 0,03 watt metro quadro kelvin a questo punto l'incognita è solo una cioè lo spessore dello strato quindi di che spessore dobbiamo comprare il pannello per raggiungere questi 0,38 watt metro quadro kelvin semplicemente facendo l'inverso della terza formula rappresentata che ci può andare a ricavare lo spessore dello strato con dei semplici passaggi matematici quindi diciamo rispetto al caso iniziale in cui la trasmittanza calcolata è la parete solo rivestita di mattoni rivestita solo di intono che era 1,09 watt metro quadro kelvin aggiungendo un pannello isolante di spessore 5 centimetri con conducibilità 0,03 resistenza termica 1,71 raggiungiamo i famosi 0,38 watt metro quadro kelvin questi sono semplicemente i due casi messi a confronto tra di loro ovviamente in questo caso specifico in questo esempio semplice che vi ho fatto non ho considerato che il pannello avrà uno strato di rasatura davanti di finitura diciamo e in realtà se distribuiamo omogeneamente la colla per incollare il pannello tra il pannello e l'intonaco ci sarebbe anche lo strato di colla da considerare diciamo noi da normativa lo dobbiamo considerare questi due strati colla e rasante la colla solo se distribuita omogeneamente perché se non è distribuita in maniera omogenea invece la conducibilità dobbiamo andare a considerare la conduttanza di quello strato misto di colla e aria eccetera il pannello e il vecchio intonaco della palete però lo strato di rasante che poi vi faccio vedere tra poco alla fine ci dà uno scarso contributo perché sono spessori solitamente molto limitati parlando di qualche millimetro ci dà un contributo ci dà un contributo però scarso diciamo rascurabile le normative di riferimento per i prodotti isolanti sono due norme armonizzate sono la 13163 la UNI-N13163 e la UNI-N13499 e come vi dicevo prima ho aggiunto ho fatto un'altra tabellina Excel in cui ho aggiunto lo strato di colla e lo strato di rasante considerando che ognuno dei due avessi uno spessore di 3 mm come potete vedere ci danno un contributo perché la trasmittanza si riduce leggermente ma a causa principalmente il loro spessore il contributo che ci danno è abbastanza ridotto in ogni modo in tutti i prodotti che noi acquistiamo a marchio ci è ovviamente nella dichiarazione di prestazione siano essi collanti siano pannelli o i fissaggi nella dichiarazione di prestazione dobbiamo avere che il produttore ci dia tutte le caratteristiche del prodotto stesso compresa anche la conducibilità perché ovviamente noi dobbiamo essere in grado di poter valutare la trasmittanza dell'intero sistema quindi considerando collanti pannelli fissaggi diciamo tutto quello che andiamo a impiegare per la realizzazione del sistema a capotto per le costruzioni esistenti ovviamente noi avremo dei materiali dei mattoni dell'intonaco posati già chissà quando anni fa insomma soprattutto per gli edifici in muratura per i quali anche se l'isolamento termico a capotto ha un'incidenza minore perché solitamente le murature soprattutto dalle nostre parti quindi Napoli ma diciamo tutto il sud d'Italia hanno uno spessore importante per cui hanno un'inerzia termica molto importante comunque diciamo nel caso in cui abbiamo a che fare con un edificio costruito negli anni 60-70 non riusciamo a reperire le caratteristiche dei materiali con i quali è stato costruito la normativa ci viene incontro ci dà tutta una serie di valori tabellati in base ai quali possiamo fare il nostro calcolo però c'è anche un approccio empirico che può essere impiegato è quello di valutare la superficie della temperatura superficiale interna del diciamo degli ambienti per i quali stiamo progettando il sistema di isolamento a cappotto e la superficie della temperatura interna ed esterna semplice formule che vi riporto qui possiamo calcolare la trasmittanza attenzione questo non è un sistema da usare secret sempliciter ma semplicemente vi può essere d'aiuto nel verificare se poi l'approccio teorico utilizzato andando a consultare le varie tabelle di normativa vi ha portato a un risultato che sia quanto più possibile poi vicino al caso che effettivamente avete in situ quindi il calcolo della trasmittanza che ci consente di fare ci consente di calcolare il flusso termico che avviene attraverso le superfici opache e quindi moltiplicando la trasmittanza per la differenza di temperatura otteniamo quello che si chiama flusso termico in watt a metro quadrato che è un parametro fondamentale che dobbiamo impiegare per dimensionare i nostri impianti quindi termici per il raffrescamento e per il riscaldamento per garantire il comfort abitativo una cosa molto importante da dire e da fare soprattutto nella progettazione di un sistema di isolamento termico a cappotto sono le verifiche di Glaser le verifiche di Glaser ci permettono di verificare se potenzialmente ci può essere formazione di condensa all'interno degli ambienti come si fa? si identificano le superfici di separazione tra i vari strati e la struttura cioè io ho uno strato di finitura del cappotto poi c'è il cappotto poi magari ho l'intonaco vecchio poi c'ho oppure comunque il rinzaffo che faccio per regolarizzare la superficie su cui vado a posare il cappotto poi c'è i mattoni e quant'altro quindi identifico le varie superfici di separazione tra i vari strati si definiscono gli spessori dei vari strati della struttura e le proprietà dei materiali che lo compongono come conducibilità e permeabilità si determinano le temperature e le pressioni di saturazione del vapore d'acqua e le pressioni parziali del vapore si confrontano i valori dell'impressione parziale e con quello di saturazione e abbiamo che se la pressione parziale risulta maggiore di quella di saturazione abbiamo la formazione di condensa banalmente se noi usando un'immagine se noi andiamo a calcolare la pressione di saturazione per ogni strato della parete e la pressione parziale se queste due curve si incrociano questa curva rossa e questa curva verde vuol dire che avremo formazioni di condensa in corrispondenza di quello strato in cui abbiamo l'incrocio di queste due curve l'argomento è molto più articolato però diciamo mi sembrava opportuno parlarvene ci sarebbe ancora più altro da dire però come dicevo inizialmente il tempo è un po' a sfavore per cui preferisco darvi un po' di informazioni sull'argomento in generale senza entrare troppo nello specifico però poi lascerei spazio anche gli altri colleghi che devono parlare un po' di me scelta e dimensionamento del fissaggio del cappotto termico allora le dobbiamo fare un passettino indietro quando vi ho parlato il construction products regulation perché il fissaggio del cappotti non è coperto da norma armonizzata ma è coperto da un European assessment document questo è il primo sulla sinistra che vedete il 3301 eccetera eccetera c'è un technical report TR051 che riguarda le prove in cantiere da eseguire sul fissaggio del cappotto termico e poi c'è l'ETAG 004 che è una linea guida è una European Technical Approval Guideline non è stata ancora ritirata anche se da quando è entrato in vigore il regolamento sui prodotti di costruzione le linee guida man mano vengono ritirate e vengono sostituite da questi documenti EAD European Assessment Document però l'ETAG 004 che riguarda gli EPICS cioè External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering nient'altro che isolamento diciamo sistemi compositi di isolamento termico con finitura with rendering non è stata ancora ritirata non è stata ancora sostituita da una EAD e comunque è ancora in vigore e all'interno di questo troviamo alcune indicazioni sul fissaggio appunto del sistema a cappotto Allora questa diciamo una cosa molto importante che da dire che i fissaggi per i cappotti sono diciamo vengono commercializzati per le strutture in muratura che sono diciamo che sono state realizzate in accordo o meglio sono state realizzate che sono ricoperte dall'Eurocodice 6 e che il fissaggio deve essere diciamo dimensionato in base a quanto dichiarato dal produttore quindi nella sua dichiarazione di prestazione che ha avuto e ha dovuto redigere nel momento in cui ha ottenuto il marchio CE oppure diciamo deve essere il fissaggio deve essere dimensionato sulla base dei risultati di prova in cantiere le prove in cantiere si eseguono secondo il documento TR051 technical report 051 i pannelli isolanti diciamo possono essere incollati fissati meccanicamente o incollati e fissati meccanicamente nel caso in cui i pannelli siano sia incollati che fissati meccanicamente il fissaggio meccanico serve a sostenere il pannello per i tempi indurimento del collante e a contrastare i carichi da vento solamente vi dico che il 90% dei tassali per cappotti che trovate in commercio prevedono che il cappotto termico sia incollato e fissato meccanicamente quindi il vostro fissaggio dovrà servire solo a mantenere temporaneamente il pannello isolante fino all'essitazione della colla e dovrà poi resistere anche ai carichi da vento che sono in particolare carichi di depressione cioè quando il vento cerca di strappare via il cappotto dalla parete ovviamente è fondamentale sempre andare a consultare il certificato del prodotto in cui sono riportate tutte le caratteristiche tecniche quindi l'European Technical Assessment di cui vi ho parlato prima perché i tasselli per cappotti sono prodotti che non sono ricoperti da norma armonizzata ma sono ricoperti da European Assessment Document come vi ho appena detto per cui saranno corredati di un'ETA all'interno dell'ETA trovate la resistenza che può offrire il tassello in diversi materiali di base mattoni calcio struzzo eccetera eccetera ma trovate anche informazioni sulla trasmittanza dell'elemento quindi voi alla trasmittanza della vostra parete così come l'avete calcolato dovete andare ad aggiungere questo delta U che è così che viene chiamato all'interno del documento che è la variazione di trasmittanza dovuta alla presenza dei fissaggi che si calcola come il punto di trasmittanza dell'ancorante per il numero di ancoranti per diciamo la sommatoria della trasmittanza lineare del profilo che viene usato per la lunghezza del profilo stesso ok quindi come vi dicevo all'interno del certificato trovate tabellati tutti i valori resistenza del tassello in base alla tipologia di muratura che è stata testata in laboratorio è ovvio che voi in cantiere potreste non trovare un materiale diciamo potreste trovare un materiale che non è riportato all'interno di queste tabelle in questo caso potete eseguire dei test in cantiere in cui diciamo l'esistenza caratteristica da considerare per la progettazione del fissaggio è diciamo valutata come la media dei valori minori di prova che avete osservato ovvero voi andate in cantiere con un martinetto vi predisponete un po' di fissaggi fate un po' di prove prendete il minimo diciamo tutti i valori più bassi che sono risultati dalle prove ne fate la media e la moltiplicate per 06 cioè considerate il 60% della media dei valori più bassi che avete ottenuto durante le prove questo per i tasselli che hanno come elemento di espansione un chiodo ovvero che per farlo espandere e bloccare all'interno del muro voi martellate un chiodo all'interno del tassello che crea diciamo il blocco che vi serve per posizionare il pannello invece nel caso in cui voi abbiate una vite come elemento di espansione quindi un elemento che va avvitato all'interno del tassello per eseguire il fissaggio invece del 60% di questo valore medio delle prove che vi hanno dato il risultato minimo dovete considerare il 50% quindi come vi ho detto inizialmente l'EAD di riferimento European Assessment Document di riferimento ci fa un'osservazione importante che questo EAD il 330 196 00 00 604 copre solamente gli ancoranti plastici che devono essere impiegati per il fissaggio dei dei sistemi di isolamento a cappotto e che non abbiano una resistenza caratteristica a estrazione maggiore di 1,5 kN questa specifica diciamo il normatore l'ha introdotta perché c'è un altro EAD che copre gli ancoranti plastici che vengono utilizzati stranamente per applicazioni in cui devono esibire una resistenza anche forse in alcuni casi più elevata di 1,5 kN e che comunque sono impiegati per utilizzi diversi ad esempio fissaggio di faccele continue di impianti e quant'altro quindi per creare una distinzione netta tra questi ancoranti plastici e gli altri che sono utilizzati per scopi diversi rimarca all'interno dell'European Assessment Document di riferimento questo viene rimarcato questo concetto all'interno dell'European Assessment Document Passiamo alla parte finale penso che sì credo di aver sforato ancora qualche minuto chiedo scusa ai miei colleghi cose in opera del sistema e dettagli costruttivi allora nella valutazione del carico termico di un edificio bisogna prendere in considerazione tutti quei casi in cui il flusso termico non è riconducibile al modello di propagazione monodimensionale del calore sono tutti quei casi in cui possiamo avere il verificarsi diciamo la presenza di un ponte termico perché in corrispondenza di un ponte termico diciamo quindi in corrispondenza di una discontinuità di una disomogeneità della nostra parete immaginate un tamponamento noi abbiamo un tamponamento che è fatto bene o male sempre lo stesso modo abbiamo intonaco e laterizio a un certo punto arriva il pilastro che diciamo nella nostra superficie costituisce una discontinuità perché c'è un cambio improvviso di materiale intonaco e mattoni passiamo a calcio e struttura armato o calcio e struttura armato e intonaco queste discontinuità che possono essere sia di materiale che di forma che di geometria generano una cosa che ci dà molto fastidio quando andiamo a realizzare un cappotto termico ovvero i punti termici la formula per il calcolo dei punti termici è molto semplice è data dal prodotto tra il coefficiente lineico l'estensione lineare del punto termico in metri e la differenza di temperatura tra interno e esterno espressa in gradi Kelvin come vi dicevo prima diciamo non è solo la differenza di materiali di composizione di materiali che può generare un ponte termico ma c'è anche una quota a parte che dipende dalla geometria dell'elemento che stiamo andando ad analizzare la normativa di riferimento la 14683 ci dà tutta una serie di formule in base ai casi che ci si possono presentare nella pratica per il calcolo del coefficiente lineico ad esempio la presenza di un pilastro oppure l'incrocio di due murature oppure la saletta del balcone insomma ci dà tutti i possibili casi in cui si può verificare un ponte termico e abbiamo bisogno di calcolare il coefficiente lineico alcuni esempi di ponte termico diciamo semplicemente guardando un edificio in cemento formato realizzato negli anni 60-70 con un'altra camera sicuramente vedremmo evidenziati tutti quelli che sono gli elementi portanti della struttura che sono proprio quelle discontinuità all'interno della parete che causano la presenza di punti termici ma così come possono essere i travetti di un solaio per esempio un solaio di interpiano tra un piano cantinato e un piano abitato oppure la riduzione di spessore della muratura in corrispondenza dei serramenti dei parapetti delle finestre sono tutti casi penso che bene o male abbiamo tutti riscontrato nella pratica una cosa molto importante è che il ponte termico non si può eliminare si può correggere si può si può attenuare fino a quasi renderlo trascurabile ma non si può proprio definitivamente eliminare comunque è sempre fondamentale nonostante io l'abbia messo come vi ho anticipato nella parte dei dettagli costruttivi è sempre fondamentale fare molta attenzione ai punti termici perché diciamo correggere un ponte termico evita la formazione di condensa contiene dispersioni termiche e migliora il comfort indoor faccio un esempio molto semplice prima di tutto come facciamo ad attenuare un ponte termico quello che ci viene incontro sono sempre i materiali isolanti che impieghiamo ad esempio per l'isolamento termico delle facciate facciamo questo esempio molto semplice un aggetto un balcone lo sbalzo quindi dalla facciata ecco se noi non rivestiamo completamente non solo la parte inferiore o la parte frontale dell'aggetto ma anche la parte del carpessio se noi non facciamo questa operazione non stiamo correggendo il ponte termico non lo stiamo la virgolette come detto prima eliminando per cui probabilmente nella zona di incrocio tra il solaio e la parete soprattutto al piano inferiore probabilmente avremo la formazione di condensa e muffe per cui quando affrontiamo il problema di isolamento termico di un edificio non ci dimentichiamo questi stai costruttivi molto importanti cioè che il nostro strato di isolante volendola dire in maniera più semplice possibile deve essere omogeneamente distribuito su tutta la superficie della faccia su tutta la superficie dell'involucro esterno del fabbricato quindi volendo sintetizzare che cosa ci serve per fare l'isolamento termico a cappotto sicuramente ci servono i pannelli ci serve la colla e il rasante i fissaggi e ovviamente la finitura esterna il rasante esterno va armato perché diciamo ha uno spessore molto esiguo se non lo armassimo dopo appena diciamo essiccato incomincerebbe completamente a spattersi infine una cosa molto importante da considerare è che tutti i prodotti che impieghiamo nella realizzazione del sistema termico a cappotto devono essere dotati di marcatura CE dobbiamo applicare la norma 11715 che contiene il rapporto tecnico sulla progettazione della posa dei sistemi isolamento termico a cappotto e soprattutto coloro l'impresa che poserà il sistema deve essere qualificato secondo la 11716 questa è una cosa che in pochi sanno che il posatore del sistema a cappotto deve essere qualificato i dettagli costruttivi diciamo come vi ho anticipato sono un aspetto fondamentale e con l'occasione con quest'ultima slide per introdurre il collega che interverrà successivamente che parlerà della posa qualificata del serramento e quindi diciamo il sistema termico a cappotto deve bene integrarsi con tutti quegli elementi che possono essere diciamo costituiscono una discontinuità nell'ambito della della parete della superficie opaca che stiamo andando a considerare come ad esempio possono essere i vani per le finestre e le porte e quindi anche la posa qualificata del serramento diventa un aspetto fondamentale per garantire il buon funzionamento di tutto il sistema io con questo vi ringrazio mi scuso con i colleghi che parleranno dopo di me se mi sono dilungato passo la parola al collega che vi parlerà del serramento grazie Carlo intanto chi è il collega che parlerà Paolo per ieri si a Paolo ciao Carlo allora aspetta che si Paolo per ieri ok buonasera assegne il ruolo di relatore vediamo se riusciamo a vedere il tuo ok vediamo il tuo schermo perfetto a te la parola grazie vedo se riesco ok quanto tempo se non mi svegli vanno a mezz'ora io non so l'altra volta quanto ho fatto per recuperare vabbè Nino Gambadoro tu che hai i tempi sì ci sono quanto quanto hanno loro allora a che ora dovremmo chiudere in teoria si chiude alle 8 finisce il forse alle 8 8-10 ok diciamo che abbiamo sì circa 20 minuti mezz'ora massimo perché quanti sono gli altri che devono parlare altri 4 sì dovremmo essere 4 4 ok e allora va bene cerca di contenere Paolo vai tranquillo comunque poi ci organizziamo verso la fine io e Marco tentiamo di fare 20 minuti circa ok cerco di contenere la mia presentazione a massima ok grazie vai con la mezz'oretta vedi tu non ti preoccupare la fine ci organizziamo io e Marco Greco non ti preoccupare no no ma riesco a contenere intanto allora intanto inizio allora la posa qualificata del seramento è un argomento che riguarda l'eco bonus 110% e inizierò subito da questo tema parlandovi dei nuovi requisiti che sono contenuti nel decreto 110% innanzitutto una rimodulazione dei valori limite di trasmittanza delle superfici tecniche trasparenti quindi dei seramenti come vedete secondo questi nuovi valori di trasmittanza gli ultimi valori di riferimento si potevano trovare nel decreto del 26 giugno 2015 e questi sono i nuovi invece i nuovi valori e sono inoltre stati introdotti i massimali dei costi dei seramenti che sono di 550 euro per le zone climatiche A, B e C e 650 per seramento oscurante mentre 650 per le zone DF solo seramento 750 per seramento oscurante inoltre 180 euro per le schermature solari da questi valori però sono esclusi tutti i costi relativi all'installazione per cui noi vendiamo prodotti di installazione tutti i costi che vanno oltre perché è importante fare una buona installazione non sono non rientrano nel tetto di questi del decreto una precisazione importante è quella relativa appunto ai valori limite di trasmittanza che sono relativi alle misure standard del seramento ovvero 1,23 per 1,48 io qui riporto la misura per la determinazione del valore di trasmittanza del seramento che è la media pesata tra la trasmittanza del vetro per l'area del vetro la trasmittanza del telaio per l'area del telaio più il perimetro del canalina ferma vetro fratto le aree totali del seramento quando però ci si riferisce ai valori limiti di qui sopra che ho ripartato in questa slide ci si riferisce a questa misura ed è di solito la misura che il seramentista ci dà tuttavia però quando poi si va a fare il calcolo delle dispersioni energetiche non si deve prendere quel valore lì ma si deve prendere innanzitutto un valore di trasmittanza relativo alle effettive dimensioni dei seramenti secondo ognuno dei fori quindi bisogna fare una tabella indicando tutti i fori dell'unità immobiliare e facendo il calcolo per ogni foro qualche seramentista questa tabella ce la dà ma non tutti perché comunque il valore di trasmittanza secondo gli impiementi di legge è quello delle dimensioni standard tuttavia ripeto il valore su tutti i fori ci serve per la determinazione delle dispersioni in tutto l'involucro inoltre sempre il decreto del 26 giugno 2015 e quindi ripreso anche dagli ultimi decreti 110% il valore di trasmittanza reale per ogni foro va compensato con il calcolo del ponte termico di cui io riporto un piccolo stralcio il calcolo del ponte termico viene fatto tramite una formula per calcolare la quale è necessario fare un'analisi sulla sezione di posa adesso non so se è il caso di approfondire questo tema in ogni caso bisogna fare un'analisi dettagliata foro per foro dei sistema di installazione calcolare appunto il peso del ponte termico e quindi calcolare uno psi che consiste in pratica nella trasmittanza lineare di installazione quindi per fare questo serve un software elementi finiti che ci permette di calcolare i flussi termici ed inoltre servono i valori di trasmittanza oltre che ovviamente della parete del cappotto ma anche del telaio del seramento e del vetro una volta calcolato lo psi quindi si fa una tabella come questa in cui si individua tutte le posizioni per ogni posizione si calcola la trasmittanza quella è la trasmittanza nuda e cruda del seramento che poi va compensata con la trasmittanza lineare del ponte termico che a sua volta è la media delle tre sezioni quindi nodo laterale nodo superiore nodo inferiore sono ponti termici diversi si fa una media ponderata il ponte termico si va a moltiplicare per il perimetro del foro del relativo foro si divide per l'area e poi si somma alla trasmittanza del seramento ottenendo poi alla fine un Uw con I che è la trasmittanza del seramento installato ecco quel valore lì va inserito poi nel calcolo delle dispersioni energetiche quindi non è una cosa banale rarissimo che il seramentista faccia un lavoro di questo tipo non ve lo aspettate purtroppo insomma bisogna bisogna lavorarci un po' sopra ok detto questo volevo parlarvi anche dei criteri ambientali minimi in relazione al seramento visto che sono previsti al 110% e qui ci sono degli studi che prendono in considerazione l'analisi di tutto il ciclo di vita del seramento che va dall'estrazione di materiale prima fino al riciclo del prodotto in realtà pochissimi produttori hanno fatto o rendono disponibili questo tipo di studi andrei invece a concentrarmi di più sempre nel rispetto dei CAM su tutto ciò che riguarda la garanzia quindi garanzia di installazione e nell'ambito di questo vi invito a pensare una particolare attenzione a tutto ciò che riguarda la cosa in opera quindi il mantenimento delle prestazioni del seramento in opera ed eventualmente a eventuali forme di assicurazione che sono possibili in Italia ve ne cito una che è questa e che sono correlate ad un contratto di manutenzione decennale dell'edificio quindi con questo marchio si può ottenere un contratto di assicurazione quindi una garanzia reale sul seramento qui invece vi cito tutte le norme uniche riguardano l'installazione del seramento o perlomeno quelle più importanti perché comunque ce ne sono anche altre che individuano anche altri dettagli quindi la norma di riferimento per i criteri di progettazione dell'installazione è la 11673 di cui io sono uno degli sensori e all'interno della quale ci sono un po' tutti i criteri appunto per la progettazione dei giunti di posa molto importante anche la Uni 1818 che riguarda le responsabilità delle varie figure professionali per prima appunto quella del progettista che dovrebbe asseverare appunto la progettazione in scala 1 a 1 dei giunti di posa poi la 1673 parte prima appunto i criteri la parte seconda e la parte terza invece definiscono gli aspetti legati al requisito di certificazione professionale anche qui come nel cappotto sarebbe necessaria anzi è necessario un requisito di professionalità su questo ricordo che io e comunque l'azienda Wurt ci occupiamo anche dell'attuazione di percorsi informativi per l'ottenimento di questi patentini in collaborazione con un organismo di certificazione che poi fa l'esatto e per ultima cito la 11673 che definisce i criteri di scelta delle prestazioni dei seramenti a partire da un valore che appunto i seramentisti non conoscono ma noi dobbiamo averlo ben presente che è la spinta del vento sulla facciata quindi a partire dalla spinta del vento sulla facciata si definisce poi i valori le prestazioni del seramento in termini di tenuta all'aria tenuta all'acqua carico al vento e permeabilità all'aria ok alcuni cenni anche se non ce la faccio a trattare l'argomento in maniera esaustiva sulla sulla posa del seramento la posa del seramento riguarda la progettazione di tutto ciò che sta tra la fine del telaio e l'opera murale in particolare all'interno di quello spazio lì c'è anche il falso telaio e quindi bisogna andare a fare una progettazione idonea in modo che ci sia una correlazione tra seramento e involucro e quindi prendendo in considerazione ogni elemento legato all'installazione salto invece tutto ciò che riguarda la marcatura CE scusatemi ma per brevità non ce la faccio a parlare di questo ponendo l'attunzione in relazione alla 1818 sulla particolare importanza e responsabilità alla quale è affidata la progettazione dei giunti in carico al progettista e eventualmente alla direzione dei lavori quindi il progettista e il direttore dei lavori sono tenuti alla corretta individuazione quindi scelta del seramento in relazione alle prestazioni e quindi anche alla corretta progettazione dei giunti di installazione a questo punto salto un po' di slide che comunque riguardano gli aspetti legati alla trasmittanza del seramento per arrivare a parlarvi dei prodotti di installazione allora per quanto riguarda i prodotti di installazione la 11673 definisce le caratteristiche tecniche di tutti i materiali utilizzabili in relazione ai parametri meccanici individuando alcuni limiti detto questo quindi non tutti i sigillanti vanno bene non tutti i nastri autoespandenti vanno bene non tutte le membrane vanno bene ma solamente alcune tipologie ad esempio ecco per quanto riguarda i sigillanti sono previste alcune caratteristiche particolari proprio per evitare fessurazioni distacchi e incompatibilità un prodotto innovativo e molto idoneo per l'interazione anche con i cappotti con gli elementi di isolamento esterno è il nastro autoespandente il nastro autoespandente è un materiale che viene fornito compresso si espande una volta che viene installato e applicato sul seramento e permette di ottemperare a tutte le caratteristiche quindi tenuta all'acqua tenuta all'aria ma anche freno al vapore che sono correlate ad una corretta installazione in questa slide invece individuo in modo veloce un po' tutti i prodotti che dovrebbero essere utilizzati a partire appunto dal nastro autoespandente sulla in quel punto lì quindi la parte in blu definisce il piano esterno di tenuta all'acqua ecco in quel punto lì il nastro autoespandente sostituisce il silicone con quali vantaggi con il vantaggio che mentre il silicone tradizionale la siliconatura tradizionale blocca la migrazione dell'umidità verso l'esterno eventuali eccessi di saturazione dell'umidità abbiamo visto prima il diagramma di Glaser che dovessero essere considerati dovessero comunque per casi di vario tipo infiltrarsi all'interno del giunto se c'è un nastro autoespandente vengono comunque eliminati quindi il nastro autoespandente blocca l'ingresso dell'acqua ma allo stesso tempo traspira ovvio che si cerca di evitare condensi intestiziali e appunto per questo è opportuno applicare un freno vapore sulla parte interna così come è stato individuato lì tra falso telaio e muro e una pellicola diffusione vapore sulla parte esterna mentre per quanto riguarda i riempimenti del giunto si usa di solito la schiuma poliuretanica nel giunto primario ovvero tra contro telaio e muro e sempre nastro autoespandenti nel giunto secondario quindi un nastro autoespandente diverso da distinguersi dal nastro traspandente che viene applicato nella battuta un ottimo ma un vantaggio del nastro traspandente un'ottima caratteristica è quella di potersi adeguare alle regolarità delle superfici quindi qualora ci fossero anche superfici irregolari sull'esterno battute l'auto espandente si adatta perfettamente e quindi riesce a compensare le regolarità mantenendo appunto tenuta all'acqua e tenuta all'aria questi sono esempi di nastri esempi di applicazione e come vedete poi ci sono tutta una serie di caratteristiche legate ad una corretta applicazione e proprio per questo vengono fatti i corsi che danno la professionalità e che sono richiesti appunto dal 110% niente detto questo io non mi addentro in altri in altri ulteriori specifiche che vorrebbero un tempo più esteso e cedo la parola ai colleghi per le ulteriori presentazioni degli altri temi ci sono i colleghi sì prego eccomi grazie Paolo sono tornato perché sono stato impegnato per questioni dentistiche ho il piacere solamente così di volerti salutare e ti ringrazio di essere intervenuto come già per settembre e anche per il mese di ottobre un abbraccio a te anche ai precedenti relatori grazie di tutto ciao e avanti il prossimo e allora chi è? ciao io Banzo Simone ciao Simone e allora a te la parola ok grazie adesso attendo di poter condividere lo schermo ok ok credo che posso bene eccoci allora rinnovo i ringraziamenti fatti adesso dai colleghi mi presento sono Banzo Simone anch'io sono faccio parte diciamo del reparto tecnico di Burda Italia e da una decina d'anni mi occupo di carpenteria legno in tutto il mondo delle costruzioni in legno il legno in questo intervento potrebbe sembrare marginale da un certo punto di vista ma dobbiamo pensare che tutte le nuove installazioni le mie le nostre nuovi diciamo impianti tecnologici che vado a predisporre ad esempio in copertura comunque vanno a gravare sulle coperture esistenti chiaramente il tetto è anche questo un involucro è anche questo una superficie opaca che concorre anche questa nella prestazione energetica globale dell'edificio e ha una funzione statica e nel momento in cui io vado a fare degli interventi di un certo entità sull'edificio perché non pensare anche a fare interventi a livello proprio strutturale sull'involucro tetto e in quest'ottica forse varrebbe anche la pena guardare un po' con buon occhio una soluzione con un tetto in legno tetto in legno ormai non è più una soluzione legata solo ai paesi nordici alle classiche baite di montagna diciamo condizioni un po' più romantiche di baite nascoste in mezzo al bosco ad oggi il tetto in legno viene realizzato sui lungomari nei laghi in zone anche che non sono prettamente montuose per vari motivi uno dei vari motivi uno delle diciamo qualità delle prestazioni di questo materiale è legata alla sua leggerezza sappiamo benissimo il nostro territorio è soggetto a azioni sismiche di notevole entità e l'azione sismica è proporzionata alla massa della struttura per cui avere una struttura leggera implica anche una riduzione dell'azione sismica che grava sull'edificio per cui la scelta di andare a realizzare un tetto in legno va a dar beneficio anche all'intera struttura perché vado a togliere un po' un cappello pesante in calcestruzzo che io ho messo sopra il mio edificio e vado a mettere una copertura un cappello molto più leggero che mi va a ridurre le masse e quindi l'azione sismica quindi questo è sicuramente uno dei grandi vantaggi il legno si fa tanto parlare di legno case in legno come case antisismiche il legno in sé non è un materiale ideale in condizioni sismiche perché è un materiale fragile non è come l'acciaio però è legato da tanti piccoli connettori in acciaio che danno prestazione però perché viene usato in ambito sismico il legno appunto perché è un materiale leggero e quindi va a dare questa leggerezza alla struttura è una leggerezza però associata anche alla resistenza in effetti il rapporto resistenza peso del legno è alla strega quello dell'acciaio è un materiale molto performante con una massa che è 5 volte inferiore a quella del calcio estruzzo ma con delle prestazioni che sono paragonabili per cui leggerezza e resistenza vanno a braccetto per questo materiale che ad oggi è sempre più impiegato in ambito strutturale chi vuole realizzare una sopraelevazione quindi ampliare le strutture resistenti con un nuovo piano è ad oggi ormai quasi costretto a utilizzare materiali leggeri perché io posso evitare di rifare la rivalutazione sismica dell'intero edificio se vado a incrementare solo del 20% le masse al piano questo dall'NTC 2018 per cui io posso incrementare le masse al piano facendo un piano in più solo se io vado sostanzialmente a utilizzare materiali leggeri materiali leggeri come il legno per cui chi va su questa strada chi deve eseguire questi tipi di interventi deve sicuramente guardare a queste soluzioni inoltre ritornando un po' all'ambito degli interventi precedenti il legno comunque per sua natura ha una buona condività termica è una condività termica che è migliore del matore forato si avvicina insomma a non dico materiali isolanti però ha comunque delle prestazioni termiche importanti che facilitano poi il progettista al raggiungimento delle prestazioni con meno sforzo e impiego di spessori isolanti inferiori per cui già la struttura in sé incrementa la resistenza termica dell'involucro d'altra parte una dei grandi temi delle grandi discussioni che ho avuto in questi ultimi dieci anni con i vari progettisti costruttori e poi committenti è sulla prestazione al fuoco dell'edificio in legno della struttura in legno del tetto in legno chiaramente il legno è materiale naturale combustibile e quindi brucia noi ci riscaldiamo noi in montagna ci riscaldiamo con il legno però ha una combustione buona una combustione che per noi progettisti è sicuramente una combustione controllata sappiamo che il legno brucia sì ma brucia con una velocità più o meno determinata ci sono numerosissimi test campagne sperimentali su questo ambito e più o meno viene definito che il legno brucia 07 08 millimetri al minuto per cui io so che in 30 40 minuti brucia tot centimetri di superficie di legno ma avendo appunto prestazioni termiche eccellenti all'interno il cuore della mia trave in legno comunque rimane performante è molto famosa molto conosciuta l'immagine di destra in cui si vede una scena post incendio in cui ci sono dei profili metallici che sono collassati e la trame in legno dalla quale escono tutti questi connettori questi sembrano aghi in realtà sono chiodi che hanno stati fissi nel legno quindi il legno è bruciato magari per 20 15 20 centimetri ma la parte interna la parte centrale della trave è comunque ancora resistente e comunque offre prestazioni meccaniche eccellenti per cui il legno si brucia ma fortunatamente brucia con una certa velocità e noi possiamo prevederlo per cui a livello di protezione al fuoco io basta che aumenti un po' le sezioni di legno so che durante quei tot minuti il legno brucerà però all'interno la mia struttura rimarrà comunque valida il legno sta prendendo molto piede anche grazie alla sua facilità di lavorazione ad oggi ci sono numerose macchine che facilitano alle segherie e ai centri tagli un taglio preciso al millimetro anche decimi di millimetro i premontaggi delle strutture già in stabilimento o a piedopera e questa tutta velocità di installazione mi permette di realizzare strutture in una copertura in tre giorni un edificio di tre piani in due settimane posso mettere la tegola sul tetto quindi ho costruito anche elevazioni posso costruire un piano di un edificio di un condominio posso costruire un piano al giorno a una velocità di installazione molto molto elevata che quindi chiaramente va a vantaggio di queste scelte costruittive tutto questo si centra un po' sul grande lavoro che noi tecnici dobbiamo fare perché con legno non si può pensare di arrivare in cantiere e con le motoseghe tagliare le travi tutto un lavoro che noi tecnici dobbiamo fare prima che il materiale arrivi in opera quindi dobbiamo interfacciarci con dei macchinari che vanno a pretagliare gli elementi costruttivi tutti questi elementi costruttivi materiale legno vengono collegati tra di loro vengono collegati tra di loro con ad oggi elementi meccanici metallici che si passa da chiodi bulloni elementi di superficie più o meno utilizzati si stanno un po' abbandonando e concentrando più la scelta sulle viti da legno faccio una brevissima panoramica dei sistemi di collegamento principali che noi abbiamo su un tetto in legno andiamo a utilizzare delle viti da legno viti che si differenziano in due macro famiglie quindi viti a filetto parziale vedete qui quattro immagini di viti che hanno tutte una parte filettata una parte liscia e cambia la geometria della testa più o meno larga più o meno bombata a seconda delle applicazioni si affiancano poi le viti a filetto completo appunto un filetto da legno che va dalla punta alla testa e questo filetto io devo sfruttarlo devo sfruttare tutti questi millimetri quadri di superficie di contatto tra il legno e il connettore quando io ho grandi sollecitazioni assiali vedremo magari un caso dopo oltre a queste due macrofamiglie che sono le più utilizzate si inseriscono anche le viti a doppio filetto che nel mondo tette in legno trovano un'applicazione molto interessante che svilupperemo poi nel corso della presentazione e poi una serie di connettori una serie di accessori che servono per fissare più o meno piastre con l'elemento lineo vediamo alcune foto di applicazioni delle nostre viti da legno classiche immagini di coperture dove travetti vengono fissate le travi principali o con piastre metalliche oppure con queste viti chiaramente la comodità e la facilità di installazione un lavoro a seco un lavoro che veramente in poche giornate io riesco a mettere insieme la struttura con una certa facilità e con un numero di operai veramente esiguo ci sono poi anche delle applicazioni speciali con le viti da legno che oggi non tratteremo mi concentrerò sicuramente sull'immagine di sinistra che sono i fissaggi degli elementi degli stelli di ventilazione sulle coperture ventilate che vanno appunto a togliere a gravare poi il pacchetto isolante dal carico verticale altri collegamenti molto frequenti sui tetti in legno sono i collegamenti di carpenteria tradizionale cioè riprendiamo un po' le lavorazioni di legno che venivano fatte nei decenni scorsi quindi lavorazioni in cui collegamenti in cui i carichi vengono trasmessi solo per contatto legno con legno senza l'ausilio di elementi metallici questi sono chiaramente sistemi che possono essere utilizzati per installare e montare con facilità l'opera ma devono essere affiancati ad oggi secondo poi le prescrizioni normative che le NTC ci danno devono essere affiancati poi a connettori metallici e più utilizzati sono come dicevo prima le viti da legno nella immagine di sinistra viti da legno fletto completo che vanno poi a risolvere i collegamenti tra le principali e tra le secondarie diciamo che noi progettisti la cosa più semplice che possiamo fare è andare a prenderci o dei software di calcolo che ci aiutano nella scelta del collegamento o in alternativa i vari produttori mettono a disposizione delle tabelle di carico in cui andiamo a scegliere in funzione delle geometrie e dei carichi in gioco la scelta del connettore ideale e questo è un po' diciamo cappello introduttivo sul mondo legno tetto in legno entrando un po' più nel dettaglio su tematiche riguardanti il comportamento igroscopico dell'involucro legno dell'involucro tetto in legno e dobbiamo ricordarci che il tetto ha avuto una grande evoluzione negli anni passato come si diceva avere un tetto sulla testa era sufficiente per proteggere le famiglie dagli eventi atmosferici quindi il tetto era a quattro tavole e dovevo portare via solamente l'acqua e gli eventi atmosferici ad oggi un tetto in legno ha sì funzioni di protezione degli eventi meteorologici ma deve anche avere prestazioni statiche molto diverse da quelle del passato devono avere prestazioni termiche molto diverse dal passato e soprattutto devo essere in grado come progettista di dare all'involucro una prestazione igroscopica una prestazione per il quale il mio elemento di copertura va a gestire in maniera controllata il flusso di vapore in entrata e in uscita questo perché abbiamo detto il legno ha tantissimi vantaggi però ha un grande nemico che non è il fuoco è i ristagni d'acqua l'umidità provoca attacchi fungine all'interno del materiale all'interno naturale che se mal protetto può degradarsi per cui se io vado a gestire male il flusso di umidità il flusso di vapore che va dall'interno all'esterno o viceversa e lo gestisco male come scelta di materiali scelta nella composizione della stratigrafia nell'ordine in cui vado a posare e andare ad inserire i miei materiali io posso provocare danni perché io posso generare condense interstiziali finché sono condense superficiali io posso avere un po' di muffa superficiale e me ne accorgo però se io condense interstiziali tra i pacchetti posso avere anche problemi di marcescienza che possono andare a gravare anche poi sulle strutture per cui a livello di gestione del vapore con il materiale legno bisogna porre un po' più di attenzione perché è chiaramente un punto molto delicato dobbiamo ricordarci che chiaramente il vapore che si trova nell'aria ha una certa migrazione dall'interno dell'esterno a seconda delle pressioni di vapore interna e esterna e maggiore la temperatura e maggiore semplificando un po' la cosa maggiore la temperatura più alta la temperatura e più vapore io posso contenere in quel volume questo significa che man mano che la temperatura si abbassa io dovrò avere sempre meno vapore concentrato in quel volume altrimenti se eccedo il valore limite di capacità di continuamento di vapore io posso avere problemi di condensazione un po' quello che si vede nell'immagine a sinistra c'è questa curva di saturazione che indica in funzione della temperatura quanto vapore posso contenere in quel determinato volume all'aumentare della temperatura quindi più mi avvicino andando a sinistra più mi avvicino all'asse delle ordinate ho chiaramente una capacità di contenimento di vapore sempre maggiore 45-50 grammi di metri più mi allontano sull'asse delle ascisse più mi avvicino alle zone fredde e minore sarà la percentuale di vapore acqua che posso contenere in quel determinato vapore per questo motivo che è necessario gestire il vapore all'interno dell'involucro perché io non posso lasciare che il vapore entra e esca in maniera incontrollata perché posso appunto entrare in condensazione in problema di condensazione come io posso gestire questo vapore con la scelta del materiale i materiali si scelgono sotto l'aspetto ibroscopico quindi sotto l'aspetto di gestione vapore secondo un parametro che può essere definito come il parametro di resistenza al vapore mu che è un parametro adimensionale un po' come lambda per la termica un fattore adimensionale che indica quanto volte è maggiore la resistenza di diffusione del vapore di questo materiale rispetto all'aria chiaramente questo è un parametro adimensionale per cui non tieno in conto dello spessore io posso avere un materiale molto resistente ma poco diciamo di uno spessore ridotto oppure un materiale poco resistente ma di spessore maggiore che mi dà la stessa resistenza al passaggio quindi come definisco io la caratteristica del materiale di quel prodotto io la definisco andando a sostanzialmente semplicamente moltiplicando il fattore mu per lo spessore del materiale e mi ritrovo questo valore sd questi due parametri mu e sd sono i parametri che generalmente ci ritroviamo nelle schede tecniche dei prodotti o uno o l'altro chiaramente se troviamo il mu sappiamo che facciamo mu per lo spessore e andiamo a ritrovarci il valore sd il valore sd è espresso in metri perché il mio spessore poi io vado a moltiplicarlo in metri e mi rappresenta lo spratto d'aria equivalente che oppone la resistenza al passaggio del vapore in pratica facendo qualche esempio io ho un sd alto per materiali poco traspiranti quindi un sd vuol dire un mu 150 un sd 15 metri per un xps da 10 cm vuol dire che è un materiale poco traspirante un sd di 6 metri è un materiale più traspirante quindi l'eps con grafite è più traspirante dell'xps per avere un sd di 0,1 metri su materiali isolanti come la lana di roccia a parità di spessore quindi io a parità di spessore ho tre materiali coiventi con tre capacità di gestione del vapore quindi più o meno isolante più o meno traspirante una lana di roccia è circa 10 volte più traspirante di un xps questo in termini assoluti poi chiaramente devo stare attento a tutti i giunti a tutti i sormonti perché lì poi il vapore si infila e esce però nell'ideale un elemento continuo di lana di roccia si può dire 10 volte più traspirante di un xps il collega l'ingegnere Ervolino aveva anticipato un po' il tema del metodo di Glaser è un metodo forse semplificato però per molti di noi può andar bene per vedere un po' la situazione di formazione di condensa all'interno dell'involucro all'interno delle superfici opache io vado a definire i miei spessori i miei materiali e in funzione della pressione di vapore fra pressione di saturazione posso andare a valutare nelle varie condizioni climatiche nel corso dell'anno se c'è formazione di condensa se c'è formazione di condensa per un determinato periodo se questa condensa nel corso dell'anno può asciugarsi o meno diciamo che è un metodo semplificato ci sono metodi anche più sofisticati metodi di analisi dinamica però secondo me un primo approccio un primo approccio sulla gestione del problema della condensa può essere appunto fatto attraverso metodi di glasero qual è quindi la scelta corretta la metodologia da seguire nella scelta dei materiali in generale si deve prediligere una sequenza di materiali con resistenza al vapore decrescente e resistenza termica crescente dall'interno verso l'esterno ma queste sono le condizioni diciamo generiche poi chiaramente in funzione della posizione climatica uno va a fare le valutazioni del caso diciamo in condizioni in cui all'esterno durante il periodo invernale ci sono delle temperature basse è sicuramente da prediligere sistemi chiusi all'interno nel lato caldo quindi elementi che hanno dei valori SD alti sul lato caldo dell'involucro e questi valori SD diminuiscono man mano che io mi allontano e mi avvicino appunto al lato freddo del mio del mio tetto come vengono definiti questi SD come vengo come posso andare a gestire la trasmissione del vapore con materiali con SD diversi io gestisco il vapore con sostanzialmente degli schermi delle membrane esiste una normativa in Italia che è una norma unic quindi è una norma nazionale è una norma del buon costruire la 11470 che tratta appunto gli schermi e le membrane traspiranti la normativa fa una prima classificazione dice in funzione dell'SD io definisco un materiale traspirante meno traspirante freno a vapore o barriera a vapore vediamo le tre casistiche schermi e membrane traspiranti sono tutte le membrane che hanno dei valori di SD compresi tra 0,00 quindi valori prossimi allo 0 fino a 0,3 metri e questa per la normativa italiana sono le membrane traspiranti dove io vado a leggere questo valore SD lo vado a leggere sulle tecniche dei prodotti e ritrovo un valore SD 0,02 metri per questo membrana traspirante VTOV200 quando il mio valore SD aumenta mi ritrovo nella famiglia dei freni vapore quindi materiali che hanno permeabilità al vapore inferiore quindi materiali più chiusi sono definiti secondo 11,470 materiali con SD da 2 a 20 metri in questo caso anche qui in scheda vedete valore SD 5 metri per questo prodotto questo telo freno a vapore VTOVDB5 150 150 o 200 che sono i numerini che vedete qui associati al nome non rappresentano la prestazione nei confronti del vapore ma presentano un'altra caratteristica che è la densità la massa aereica la massa del materiale quindi non confondiamo la massa con la prestazione di gestione a vapore quando noi ci spostiamo su SD molto alti quindi oltre i 100 metri la normativa definisce questi prodotti come barriere al vapore chiaramente ci sono dei buchi tra 0,3 e 2 tra i traspiranti e i freni e tra 40 e 100 che era il limite scusate tra 20 e 100 che era il limite del freno a vapore in cui la norma non definisce non dà un nome al materiale con quelle prestazioni noi sappiamo che un SD di 1 è un traspirante poco traspirante un freno a vapore con un SD di 60 è un freno molto alto quasi una barriera ci tengo a sottolineare che le barriere a vapore sono molto delicate io personalmente tendo a evitare l'utilizzo delle barriere a vapore anche se comunemente si chiama barriera a vapore un po' tutto vorrei proprio generalmente io tendo a eliminare questo prodotto tendo a togliere questo prodotto perché è un materiale un po' rischioso se io vado ad inserire una barriera a vapore in un tetto chiaramente con determinate caratteristiche io freno completamente quasi completamente il passaggio del vapore dall'interno verso l'esterno ma questo nel concetto nell'ideale nelle tavole nelle relazioni nei calcoli è perfetto ma a livello di posa dobbiamo sapere che sono comunque rotoli da un metro e mezzo da tre metri da un metro a seconda delle dimensioni che trovate sul commercio sono rotoli che devono essere sovrapposti devono essere giuntati devono essere fissati meccanicamente devono essere nastrati il posatore può fare un lavoro perfetto ma poi arriva l'elettricista e buca tutto perché deve far passare la canalina poi arriva l'antennista e fa un foro che attraversa tutto il pacchetto poi dobbiamo installare i pannelli e non ci sarà pensato di installazione bene fatta posteriori della chiusa del tetto per cui su foglie su forature sostanzialmente io vado a forare il mio materiale che è chiuso totalmente al 99% sulla superficie è chiuso e poi ho dei fori qui e lì dove il mio vapore che non trova sforgo va a concentrarsi proprio in quei punti allora lì ho una concentrazione elevatissima di vapore è una concentrazione elevatissima di vapore e acqua che salendo percorrendo la stratigrafia verso il lato freddo tenderà a condensare quasi sicuramente in quel punto per cui la barriera a vapore è un po' pericolosa perché non ho la gestione diffusa ma ho probabilmente alcuni punti in cui si concentra totalmente il mio passaggio di vapore per cui io personalmente come scelta preferisco avere un freno a vapore all'interno che mi lascia passare un po' di vapore ma almeno una gestione diffusa e non puntuale in alcuni punti della copertura questo ad esempio è un'immagine tratta da una pubblicazione che ho trovato in rete di un magazzino edile in cui va a indicare la corretta stratigrafia con un freno a vapore con SD di 3 metri sul lato caldo io freno il vapore e quel po' di vapore che mi entra attraverso il freno va nel terreno del pacchetto isolante e non deve trovare più ostacoli può essere un imbuto rovescio piccolo all'interno e poi ci deve aprire e man mano che mi allontano vado sul lato freddo trovo una membrana altamente traspirante a protezione del pacchetto coibente per cui questa membrana non andrà a chiudere non andrà a frenare il vapore per il po' di vapore che entra deve trovare strada libera e la membrana appunto è aperta e mi permette la trasferibilità completa del pacchetto chiaramente il vapore sale ritrova la membrana traspirante attraversa la membrana traspirante e trova uno sfogo lo sfogo è dato dalla ventilazione e ne parleremo tra due o tre slide la 11 470 su questo vado un po' veloce mi permette anche una classificazione secondo la resistenza meccanica quindi non solo in base alla permeabilità al vapore quindi non solo in base all'SD ma anche in base alla resistenza meccanica quindi allo strappo sostanzialmente con tre classi R1 R2 R3 in funzione della resistenza a trazione del materiale anche in questo caso abbiamo nelle nostre schede prodotto definito resistenza alla trazione e resistenza alla lacerazione da chiodo quindi punto di fissaggio tiro il telo e vedo se si strappano o che resistenza sia la lacerazione in funzione di questi due parametri secondo la 11 470 vado a definire la classe R1 R2 R3 e questo vedremo dove è necessario prendere in considerazione queste classi la terza classificazione che la 11 470 mi offre è la classificazione in funzione della massa abbiamo visto prima telo da 200 telo a 150 rappresenta unigrammi a metro quadro del mio schermo ho quattro classi ABCD in funzione della massa della membrana più è alta la massa e maggiore sarà la classe quindi un telo da 200 da 200 grammi in su è un di classe A è un telo ad alte prestazioni meccaniche perché è un telo molto grosso e anche in questo caso in tabella vedrete poi i valori di massa aereica della mia membrana in funzione del mio valore di massa posso andare a definire classe A USB FSCD cosa servono queste classi di resistenza e classi di massa servono perché io devo andare a prescrivere il materiale la membrana non solo in funzione della gestione del vapore ma anche in funzione delle caratteristiche meccaniche e la norma è molto chiara la norma dice per pendenze superiori all'80% quindi per tetti molto inclinati io devo andare a inserire una membrana con resistenza a trazione elevata perché perché quando l'operatore installa la membrana farà molta pressione farà molta trazione sul telo e io devo evitare che il telo si laceri al contrario quando io ho pendenze basse quindi sotto il 30% quindi pendenze non sotto il 16 gradi non pendenze elevate io ho bisogno di un telo a classe a quindi un telo ad alta grammatura un telo sopra i 200 grammi perché perché con basse pendenze l'operatore tenderà a camminare ci saranno tanti operatori che cammineranno sulla copertura e il calpestio provoca la lacerazione del telo e per cui ho bisogno di un telo da 200 grammi in su perché questi 200 grammi mi fanno la protezione quindi un telo grosso spesso che mi va a proteggere la parte centrale che è quella che fa la vera e propria impermeabilizzazione per cui non bisogna confondere un telo grosso non necessariamente un telo resistente un telo da 200 grammi non necessariamente è un telo da mettere su tetti molto pendenti e il contrario un telo molto resistente a livello meccanico se perché magari dentro una rete di rinforzo o comunque dei rinforzi meccanici interni non è detto che sia un telo adatto a tetti con pendenze inferiori perché potrebbe essere sottile 150 grammi ma con una rete in fibra di vetro interna che migliora le prestazioni meccaniche a trazione ma 150 grammi dopo due giorni di lavorazione ho iniziato a avere i primi buchi sul telo perché gli operai camminano e palano sul tetto visto che fa poca fatica che la pendenza è bassa dicevamo prima la ventilazione è molto importante perché il mio vapore che ha superato gli strati deve trovare sfogo deve essere allontanato dalla copertura e la macroventilazione si genera andando ad inserire degli stelli appunto di ventilazione solo per pacchetto e per far sì che questa ventilazione sia funzionale sia una ventilazione corretta io non devo dimenticare che il mio flusso d'aria sia continuo dalla volta al colmo quindi devo avere degli accessori devo ricordarmi in fase di progettazione già di inserire degli accessori di ventilazione in gronda e uno sfogo sul colmo anche questo ventilato come viene definita la ventilazione c'è una normativa una un'italiana 9460 che mi dà delle indicazioni e come accenno ricordiamoci 550 centimetri quadrati netti per metro miliare di falda perché perché non tutte le falde hanno necessariamente bisogno di 5 centimetri di ventilazione di 6 centimetri di ventilazione di 8 centimetri di ventilazione dipende dalla pendenza dipende dalla lunghezza della falda più la falda è lunga maggiore sarà la ventilazione perché devo generare un maggior flusso più la falda sarà inclinata meno ventilazione avrò necessità di inserire perché avrò un maggior effetto cammino per cui c'è un formativo che ci aiuta un po' nella definizione degli spessori minimi di ventilazione questi listelli di ventilazione io poi devo andare a fissarli devo andare a fissarli sopra materiale coibente per cui sostanzialmente io ho che il mio carico neve la manutenzione ordinaria il manto di copertura va a gravare sostanzialmente sui listelli di ventilazione questi listelli devono trasmettere poi il carico alla struttura e non all'isolante perché se vado a comprimere l'isolante io vado a togliere prestazione termica a materiale come vado a collegare gli stelli di ventilazione con la struttura attraverso le viti che ho accennato a inizio di presentazione che sono le viti a doppio filetto quindi hanno un filetto che va a prendere la parte di stello di ventilazione e c'è un filetto verso la punta invece che va a trasferire il carico sulla trave strutturale sull'elemento strutturale in questo modo io vado a creare essenzialmente una reticolare dove ho il corrente inferiore e superiore che sono gli elementi in legno l'istello e la trave e i miei diagonali i miei puntoni diagonali che sono costituiti dalle mie travi dalle mie viti in acciaio per cui vado a costruire una reticolare ibrida legno acciaio in questo modo il pacchetto isolante materiale coibente all'interno della reticolare sarà scaricato non sarà gravato dai pesi verticali e potrà lavorare in maniera ottimale nel corso della sua vita come vado a definire le vite perché chiaramente c'è un sottorino che ci aiuta e ci definisce in funzione della geometria il passo e la dimensione corretta della vite sia in copertura che in facciata ogni vite che io installo sul listello chiaramente va a forare le membrane e ne forerà almeno due quindi forerà il telo traspirante che sarà sopra al coibente e forerà il freno a vapore sul lato freddo sul lato caldo sul lato interno del tetto per cui dovrò fare attenzione che tutte le perforazioni dovranno essere sigillate la 11 470 al punto 6 punto 2 è molto chiara dice tutte le perforazioni degli SMT degli schermi e delle membrane traspirante dovute ai fissaggi devono essere sigillate con opportune guarnizioni questo perché perché io foro con la mia vite il listello poi può avere delle deformazioni lì ho forato il telo e il telo con un foro ho una prima infiltrazione d'acqua e va sicuramente a entrare in quel forellino lì e va a danneggiare il materiale coibente per questo è necessario prevedere le guarnizioni impermeabili ci sono varie tipologie ricordiamoci che vanno previste d'altra parte tutto quello che ci siamo raccontati adesso sulla gestione del vapore deve essere tenuto in considerazione anche sotto l'aspetto di tenuta dell'involucro di diciamo ermeticità dell'involucro sia lato interno che lato esterno perché tutto va bene ma se io faccio il pacchetto e non vado a sigillare le mie membrane non vado a sigillare i miei pannelli chiaramente l'umidità e il vapore andrà a scegliere i percorsi più semplici che sono i percorsi dove ci sono i giunti le connessioni è per questo che è necessario sormontare bene le membrane e sigillarle per la sigillatura ci sono dei materiali dedicati sono dei nastri acrilici più o meno larghi con varie geometrie varie caratteristiche però l'importante è non dimenticarsi di prescrivere anche le sigillature in realtà nei capitolati basterebbe scrivere tetto secondo 11 470 e facendo questa piccola dicitura uno è obbligato a considerare anche gli accessori di sigillatura di impermeabilizzazione tutte le bande adesive i nastri adesivi e tutti questi elementi per garantire la corretta tenuta all'aria per completezza vi riporto due accenni sulle sigillature bisogna ricordarsi di sigillare longitudinalmente le membrane per cui io quando vado a realizzare il tetto partirò dalla gronda e man mano mi alzerò verso il colmo col primo rotolo srotolerò il secondo rotolo e andrò a sigillare il giunto lineare con dei nastri questo giunto può variare da 10 a 20 cm chiaramente più il tetto è pendente io posso permettermi di ridurre il sormonto perché chiaramente il migliore impermeabilizzante è la pendenza in questo caso per cui il tetto pendente sono sicuro che l'acqua corre con tetti con bassa pendenza invece ho bisogno di aumentare il sormonto a 20 cm e non dimentichiamoci che le sigillature e i sormonti devono essere fatti anche nel senso trasversale per cui anche qui ho 10 o 20 cm a seconda della pendenza sono dettagli che fanno la differenza questi perché se noi ci dimentichiamo non facciamo controllo corretto sulle sigillature io posso aver prescritto materiale perfetto però se viene posato male i danni possono arrivare lo stesso stesso discorso vai sulla linea di colmo sulla linea di colmo è un punto molto delicato perché vado poi a forarlo in maniera continuativa con degli stelli portategole e anche qui ho bisogno di andare a prescrivere dei sormonti delicati e addirittura c'è chi prescrive uno spezzone di telo molto più resistente che corre lungo il colmo perché appunto è una zona molto molto delicata e con questo io vi ringrazio se ci sono domande sono a disposizione grazie Simone in questo momento domande non non ce ne sono se qualcuno dovesse avere qualche curiosità eventualmente te lo facciamo sapere dopo di te chi deve intervenire c'è Marco eccomi eccomi qua buonasera ciao Marco tu hai delle slide da presentare ti assegno il ruolo di relatore ok grazie allora ancora Simone e ora Marco non ti vediamo ok arrivo allora vado a condividere la presentazione va bene ok vediamo la presentazione in questo momento vediamo se riesco a togliere questo eccola qua ok la vedete perfetto sì sì ok allora provo un attimo chiudere questa un attimo perché mi è rimasto cercando di compattere eccolo qua perfetto ok buonasera a tutti eccoci qua io sono Marco Greco e sono per sono lo specialista per la gamma termotecnica per la regione Sicilia oggi io mi occuperò di presentarvi un po' il quello che è il riscaldamento a pavimento che fa parte come vi dicevo della nostra gamma termotecnica entro subito nel merito della questione perché già è abbastanza tardi allora abbiamo già visto anche in interventi precedenti che con appunto il decreto rilancio 34-2020 è possibile insomma proporre come intervento trainante la sostituzione dell'impianto di riscaldamento invernale che in buona sostanza significa andare a sostituire uno o più generatori di vecchia generazione quindi energivori quindi con grandi consumi e bassa efficienza ma significa anche andare a sostituire i terminali di erogazione del calore che tipicamente all'interno delle case troviamo dei troviamo dei termosifoni ma possiamo avere anche anche altro diciamo che il terminale principe che ci consente di ottenere dei nuovi impianti ad alta efficienza è il pavimento radiante che noi possiamo andare ad accoppiare con svariate tipologie di generatori ad alta efficienza uno di questi è chiaramente la caldaia a condensazione un'altra potrebbe essere la pompa di calore aria a acqua piuttosto che un sistema ibrido diciamo che poi oltre a questi ci sono anche altri sistemi ancora più completi che prevedono anche l'applicazione insomma la possibilità di fare anche acqua calda sanitaria insomma c'è un po' di tutto qui poi è una libera scelta del progettista quello che vuole andare ad adoperare in funzione di quelle che sono le condizioni di ogni impianto e di ogni progetto tutti questi generatori come dicevamo quindi alta efficienza e sono in grado di alimentare un pavimento radiante quello che significa che sono in grado di alimentare un pavimento radiante che in buona sostanza sono in grado di lavorare con un fluido termovettore che viaggi a temperature fra i 40 e i 42 gradi che sono quelle idonee all'alimentazione dei nostri impianti ora quando si parla di pavimento radiante è chiaro che bisogna anche capire perché questi impianti stanno prendendo sempre più piede anche da noi in Sicilia dove fino a poco tempo fa si pensava che non fossero proprio il massimo e si tendeva a rimanere su impianti tradizionali oggi noi lo vediamo anche dai nostri numeri giornalmente arrivano richieste e si chiudono contratti per la fornitura di pavimenti radianti sicuramente uno dei il primo vantaggio è quello che vi dicevo prima quello di avere di sfruttare tecnologie a bassa temperatura e quindi da una parte abbiamo minori consumi perché facciamo funzionare i nostri generatori a dei regimi più bassi quindi in buona sostanza andiamo a spendere meno in termini di bolletta dall'altra abbiamo una maggiore appunto e quindi innalziamo ecco l'efficienza in buona sostanza del nostro sistema di migliore distribuzione del calore perché chiaramente abbiamo un'ampia superficie di scambio termico quindi riusciamo a distribuire omogeneamente il calore su tutta la superficie della nostra abitazione o comunque dei nostri locali e un'altra cosa che va sottolineata soprattutto oggi che andiamo a fare delle progettazioni integrate anche con gli arredi e quant'altro è la totale libertà di arredo perché non andiamo ad impegnare spazi sulle pareti con dei corpi estrani oltre ovviamente al fatto che avendo il calore che nasce direttamente dal pavimento evitiamo problemi di umidità piuttosto che formazione di condensa o buffe sulle pareti stesse ora il riscaldamento radiante come se andiamo diciamo ad analizzare la sua curva di distribuzione del calore è molto vicino alla curva ideale del riscaldamento diversamente rispetto ad esempio rispetto ad un impianto tradizionale a radiatori insomma vediamo che c'è una differenza veramente importante ma com'è che noi arriviamo ad ottenere questo risultato sicuramente dalla parte del progettista bisogna stare attenti essenzialmente ad un paio di parametri il primo è in buona sostanza legato alla metodologia con la quale andiamo a stendere le tubazioni sul pavimento ed un altro è il passo di pose che vedremo immediatamente più avanti per quello che riguarda le modalità con cui possiamo distribuire il tubo a terra sono essenzialmente due da una parte abbiamo lo sviluppo a serpentino dall'altra abbiamo lo sviluppo a spirale lo sviluppo a serpentino ha il vantaggio di consentire di copiare in modo molto semplice anche delle sagome a livello proprio di forma degli ambienti che siano piuttosto irregolari dall'altro soprattutto nel caso di uno sviluppo a serpentino semplice può creare delle importanti difformità di temperatura sulla superficie che possono essere comunque recuperate facendo uno sviluppo a serpentino doppio come vediamo nella figura in basso a sinistra chiaramente in questo caso vediamo che andiamo a creare tutte delle curve a 180 gradi quindi le perdie di carico magari sono abbastanza rilevanti l'altra tipologia di sviluppo è quella a spirale che è quella maggiormente utilizzata in ambito residenziale è una tipologia di sviluppo che ci consente di avere alternati tubi rimandati di ritorno e quindi di avere una uniformità di temperatura sulla superficie pressoché totale chiaramente diciamo che con questo tipo di sviluppo con la spirale vediamo anche che le curve che facciamo con la tubazione sono delle curve a 90 gradi invece di curve a 180 gradi che vediamo nell'altro caso e quindi le perdie di carico sono notevolmente ridotte diciamo che in ambito residenziale normalmente si lavora con lo sviluppo a spirale mentre in in situazioni dove abbiamo delle estensioni piuttosto ampie è possibile chiamare in causa lo sviluppo a serpentino come vediamo nella figura in bassa a destra perché ci consente di realizzare circuiti che sono tutti quanti della stessa lunghezza e quindi di riuscire a bilanciare con maggiore facilità poi i vari circuiti dell'impianto cosa che con lo sviluppo a serpentino su grandi superfici risulterebbe piuttosto difficile l'altro parametro sul quale il progettista va a lavorare di solito e il passo di posa attenzione sul passo di posa perché questo chiaramente a qualità di temperatura del frutto termovettore consente di avere anche temperature differenti sulla superficie del pavimento qui dobbiamo andare a prendere la norma 1N la 1264 nella sua parte seconda nella quale infatti vengono divise le varie zone del pavimento radiale che sono le zone soggiornali quelle dove abitualmente si staziona temperatura superficiale non superiore a 29 gradi i bagni disimpegni e quant'altro che non devono superare invece i 33 gradi e le zone perimetrali quindi quelle vicine alle pareti perimetrali dell'edificio quindi le pareti esterne dove la temperatura può arrivare a 35 gradi questo diciamo perché questa norma pone questi limiti perché si potrebbero ironiamente pensare che più alta la temperatura del pavimento e magari più efficiente o più magari ci dà comfort in realtà non è così perché con temperature troppo elevate si possono avere anche dei problemi di salute sulla circolazione sanguigna e quant'altro quindi la norma ci pone questo tipo di paletti giocare sul passo noi come VURT consigliamo di lavorare con passi che vanno fra 10 e 20 perché poi al di sotto dei 10 cm di passo di posa abbiamo un notevole incremento nella quantità dei materiali ma un insignificante incremento della resa termica quindi il gioco non vale la candela nel caso invece di passo superiore a 20 cm avremmo un problema di cominciare a sentire delle difformità sulla temperatura superficiale rispetto appunto sulla superficie del pavimento ad una delle zone più calde e delle zone più fredde e questo chiaramente per il conforto non è il massimo quindi insomma con questi due questi qua sono i due parametri sui quali giocare per andare a dimensionare correttamente un pavimento radiante per quello che riguarda entrando nello specifico di quello che sono i nostri prodotti questa è come vi dicevo la nostra gamma termotecnica quindi formata dal pavimento radiante ma anche da sistemi di distribuzione per reti termosanitarie quindi in buona sostanza tubazioni componenti di impianto e poi tubazioni per il solare termico in acciaio in acciaio inox il pavimento radiante a sua volta diciamo consta di una serie di componenti che possono essere facilmente raggruppati così come li vediamo quindi tubazioni con i relativi racconti i collettori con i loro accessori e i pannelli e questi tre sono diciamo gli elementi principi del sistema e poi ci sono tutti gli altri accessori ad esempio per realizzare il massetto piuttosto i giunti di dilatazione e gli accessori per la regolazione questa è la sezione tipo di un pavimento riscaldato quindi sul solaio o comunque sul premassetto quello che va a coprire gli impianti già realizzati quindi l'impianto elettrico l'impianto idrico sanitario si va a realizzare questo primo massetto sul quale viene posto il pannello isolante questo qui di colore rosso in azzurro vediamo la striscia perimetrale che ci consente di contenere le dilatazioni termiche verso le pareti esterne sul pannello si posa il tubo che viene annegato poi nel massetto ovvero è proprio del pavimento radiante che è proprio funzionale il funzionamento del pavimento cioè è quello che poi si riscalderà ed erogherà calore e su tutto questo viene poi riposato il pavimento allora le nostre tubazioni noi proponiamo tre diametri differenti sono 12 17 e 20 quello più utilizzato è il 17 il 12 viene utilizzato in impianti a bassissimo spessore il 20 invece per impianti di grande estensione il nostro tubo è un PEX A quindi polipirente reticolato fra tubo dalle ottime caratteristiche in linea con quello che danno anche altri produttori insomma dopodiché vogliamo vedere le cassette da incasso qui non mi dilungo sono semplicemente degli accessori i collettori che sono il secondo grande componente degli impianti a pavimento noi abbiamo collettori in ottone annichelati da 2 a 13 vie forniti premontati quindi arrivano così come li vediamo in queste foto chiaramente a seconda del numero di vie che andremo a dimensionare e abbiamo un collettore nudo oppure già coibentato quindi anche questo arriva con la coibentazione già montata per impianti di riscaldamento e di raffrescamento una cosa importante questo qui è un esempio di montaggio una cosa importante è che abbiamo anche una versione del nostro collettore che ci consente di intervenire allora quando ci siano delle situazioni dove c'è magari un impianto preesistente che deve lavorare ad alta temperatura quindi magari già con dei termosifoni quindi dove c'è una caldaia che deve lavorare a 65-70 gradi e poi vogliamo andare a realizzare magari in un'altra zona dell'abitazione un impianto a bassa con questo tipo di collettore noi abbiamo in pratica un punto di miscelazione a punto fisso che ci consente di entrare nel pavimento a bassa temperatura e abbiamo la possibilità anche di avere degli stacchi ad alta magari per realizzare riscaldamento nei servizi igienici chiaramente il gruppo di miscelazione è dotato di circolatore con tecnologie RP il pannello è l'altro elemento fondamentale degli diati a pavimento radiante nel nostro caso noi abbiamo EPS200 quindi una resistenza a schiacciamento di 200 kPa questo ci consente di in buona sostanza di evitare sia problematiche durante la posa dell'impianto perché in pratica ci possiamo camminare tranquillamente sopra il nostro pannello non si schiaccia sia anche in situazioni successive alla posa quindi magari dove abbiamo realizzato dei massetti abbastanza bassi avere una resistenza allo schiacciamento a compressione così elevata consente di non avere nel futuro durante l'utilizzo del nostro impianto dei sedimenti proprio meccanici e quindi dei problemi poi sul rivestimento insomma del nostro pavimento quello più utilizzato fra i tre è quello di colore nero perché insomma è un bugnato dove il tubo va ad incastrarsi perfettamente poi abbiamo altre due versioni che sono quell'arancione dove invece servono delle clip per il fissaggio del tubo e quello la grigia insomma è un tubo è un pannello ipotolo davvero poco utilizzato tutti e tre comunque hanno questa caratteristica di avere questa resistenza elevata a compressione e qui abbiamo degli esempi di posa con il pannello liscio in rotolo riusciamo a fare degli spessori fra 82 e 102 mm considerato sempre un massetto tradizionale da 4 cm e mezzo scusatemi se disturbo no volevo soltanto salutare tutti perché devo andare via e quindi volevo salutare voi e tutti tutte le persone sono in collegamento per la disponibilità ormai non riesco ho degli impegni e quindi devo andare via quindi perdonatemi e niente tutto qua scusatemi grazie a te ok buonasera ciao buonasera ciao allora riprendo da dove avevo lasciato quindi dicevamo che con questo pannello con quel pannello liscio riusciamo a fare questi spessori fra 82 e 102 mm considerato sempre un massetto da 4 cm e mezzo quindi qualora si realizzasse un massetto ribassato anche a 3 cm avremmo la possibilità di recuperare insomma questo cm e mezzo sullo spessore del pacchetto questo è un esempio invece di pannello arancione già posato e con questo invece gli spessori sono sempre fra 93 e 103 mm sempre esclusa mattonella e sempre con quel discorso di prima che è possibile lavorare sullo spessore del massetto e quindi scendere di un centimetro e mezzo stesso discorso vale per il pannello nero con il quale invece riusciamo ad andare da 77 a 107 mm e quindi se consideriamo la possibilità di mettere un premiscelato sopra quindi scendere a 3 cm di massetto abbiamo un pacchetto abbastanza compatto intorno ai 6 cm quindi che ci consente di installare il nostro pavimento radiante anche in situazioni dove abbiamo veramente poco spazio a disposizione questa è la soluzione invece dove di fatto spazio a disposizione ce n'è veramente poco o nulla perché è una tipologia di pavimento radiante che con 2 cm e 3 cm ci consente di andare appunto ad installare un radiante a terra chiaramente con alcune considerazioni da fare sicuramente ecco questa qui è la sezione che ci tenevo a farvi vedere nella figura di sinistra vedete che se posiamo direttamente a terra il pannello montiamo il nostro tubo in questo caso è un tubo da 12 non è più un tubo da 17 e gettiamo su un'autolivellina andiamo ad avere un pacchetto di 23 mm più collante e rivestimento sicuramente non è ottimale dal punto di vista del riscaldamento perché avremo delle dispersioni la tendenza a disperdere verso il basso quindi bisogna andare poi a vedere dove andare a installare questo pavimento se ci sono le condizioni per poterlo fare allo stesso modo insomma in situazioni dove non ci sia proprio lo spessore questa potrebbe essere una soluzione chiaramente qua il passo di posa non sarà più un passo 15 17 20 ma qui andremo su passi più stretti perché già la resa è bassa in questo modo cerchiamo di darla un po' e quindi anche abbiamo insomma c'è la possibilità che i collettori siano piuttosto ingombranti quindi ripeto questa è una opportunità che diamo ai nostri clienti ma che poi va insomma in certi casi si risulta essere l'unica per l'applicazione di un pavimento radiante qui si parla di una serie di accessori vabbè qui vi dico soltanto senza entrare nel merito che noi come VURT vediamo la possibilità di insomma di realizzare un massetto additivato da 4,5 per massecchi più bassi ci appoggiamo ad altri produttori che già danno dei prodotti pronti per la regolazione ovviamente abbiamo tutto quello che è necessario ora parliamo di quello che diamo ai progettisti sicuramente una cosa importante è il servizio che teniamo a dare anche a voi non solo agli installatori quindi diciamo che qualora da parte di un progettista venga fatta una richiesta noi vi diamo come output sicuramente un computo con tutti i quantitativi tutte le voci insomma necessarie per fare l'impianto e qualora sia diciamo richiesto anche in una fase precedente all'ordine vi diamo una tavola un esecutivo che però sarà un esecutivo un semplificato non andiamo a fare in buona sostanza non sarà come questo che vediamo qui dove c'è tutto il serpentino disegnato ma sarà una cosa un po' più semplice che però è un esecutivo a tutti gli effetti che quindi poi potrete allegare poi ai vostri progetti quindi se avete questa necessità noi questo supporto lo possiamo dare tranquillamente agli studi di progettazione diciamo che le informazioni che ci servono per arrivare a questo risultato non sono neanche così tante abbiamo già un modulo prestampato che io vi posso girare qualora mi abbiate la necessità nel quale vanno inseriti una serie di dati del pavimento che insomma sono di facile fruizione da parte del progettista stesso io a questo punto diciamo ho concluso vi ringrazio per l'attenzione ma spero di poter sentire qualcuno di voi al più presto grazie grazie a te Marco qui c'è una domanda di Paolo Di Paola chiedere il caso di sormonti verticali da sigillare detti sormonti debbono essere opportunamente sfalsati questa qua mi sa che è una domanda che era relativa al collega che mi ha preceduto non so chi vuole rispondere per Paolo vediamo se c'è ancora lui si rispondo rispondo io avevo preparato il testo non avevo interrotto la presentazione ok merito ai giunti verticali la 11 470 riporta sulla prescrizione di realizzare i giunti in corrispondenza di un listello e non di sfalsarli per cui nella pratica è corretto pensare di sfalsarli però bisogna sfalsare i giunti almeno in interasse dei listelli d'altra parte è anche difficile trovarsi in opera che il trotolo finisce esattamente ogni strisce di rotolo finisce esattamente in corrispondenza uno con l'altro per cui è corretto prescriverlo anche se poi nella realtà difficilmente ci si ritrova in questa condizione ecco ho lasciato anche il mio contatto qui nella chat perfetto grazie ora chi chi ci sono io l'ottimo Marco Costanzo Marco Costanzo ciao Marco ciao aspetta che ti nomino relatore si ah perché con la C ti cercavo con la M invece ecco di qua ok ultimo intervento ultimo intervento per oggi ultimo intervento rapidissimo allora un attimo che condividiamo ok perfetto al solito c'è tutto questo il baradano validato che l'ho ok facciamo così parleremo di fotovoltaico intanto buonasera a tutti è sempre un piacere potervi incontrare io sono Marco Costanzo e mi occupo sempre qui in Sicilia dalle parti tecniche più legate al mondo dell'edilizia per le nostre per i nostri prodotti per i prodotti si vede la presentazione datemi un cenno vabbè io vado avanti si 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 vede si vede perfettamente quindi parliamo di fotovoltaico rapidissimamente il fotovoltaico all'interno del super bonus come abbiamo visto prima ci sono voi sapete meglio di me ormai ci sono degli interventi trainanti interventi trainati quindi oltre gli interventi trainati che possono beneficiare chiaramente di questa attenzione il 110% gli interventi trainati possono a loro volta essere inseriti all'interno di questo super bonus sono esclusivamente se diciamo successivi o diciamo di peripasso gli interventi trainanti quindi cosa sono considerati come interventi trainanti gli interventi previsti dall'articolo 14 del decreto legge del 2013 tra questi ci abbiamo l'installazione di pannelli solari e di pannelli del cumulo integrati e quindi di fotovoltaico e andiamo a parlare rapidissimamente appunto del fotovoltaico secondo i vantaggi di un sistema fotovoltaico moderno di un sistema di staffaggio fotovoltaico moderno nel caso specifico quello nostro ha un sistema brevettato con un aggancio rapido detto appunto easy click è un sistema che consente in sostituzione a quelli che erano i vecchi montaggi con la vite testa a martello poi andare a mettere la graffa Z a omega e poi andare ad avvitare quindi un sistema che si andava componendo con tutte le difficoltà del caso quindi il fatto che quando poi vai ad avvitare si potrebbe bloccare la vite testa a martello insomma tutte le problematiche legate a questo tipo di contagio un sistema di questo qua è invece molto più semplice perché consente di andare ad agganciare direttamente sul binario del profilo andare ad agganciare l'eventuale graffa terminale centrale piuttosto graffa d'arresto nel diciamo quella graffa che ci interessa esercitare una livella di pressione e l'aggancio poi andare a posare chiaramente i pannelli e andare a stringere quindi l'aggancio e il fissaggio è subito che è fatto diciamo che il tipo di la velocità di collegamento non ce l'abbiamo solo sulla parte superiore quindi quando è che abbiamo ad agganciare i pannelli sul binario corrispondente ma abbiamo anche sulla fase diciamo antecedente ovvero quando andiamo a fissare il binario su quelli che poi sono i fissaggi direttamente sulla copertura quindi anche in questo caso ci saranno dei ora andremo a vedere le varie staffe i vari ganci che hanno sul lato una vita a testa a martello con un'incisione ben visibile che consente anche di vedere se è stata girata bene quindi se si poi può passare alla fase di stringimento della vite quindi di fissaggio della vite e quindi al completamento del montaggio chiaramente essendo diciamo prodotti soggetti a intemperie andiamo a utilizzare quelli che possono essere i materiali più adatti a questa tipologia di intervento quindi alluminio piuttosto che acciaio inox con chiaramente garanzia da parte del produttore da parte nostra sul materiale l'ulteriore vantaggio un'altra cosa che poteva essere diciamo durante il montaggio dei vari profili uno con l'altro poteva essere diciamo un po' rognosa piuttosto che macchinosa alla giunzione tra i vari fissaggi perché magari nei vecchi sistemi vi era una piastra che poi doveva essere fissata a sua volta con delle viti e quindi tenere insieme questi profili veniva anche un po' più macchinoso nel caso specifico noi abbiamo preferito utilizzare un sistema con un elemento di giunzione che si va a inserire all'interno del profilo stesso c'è un rivetto di riscontro che consente di poterlo inserire alla misura giusta quindi non c'è il rischio che questo eventuale elemento di giunzione possa scorrere liberamente all'interno dei profili e questo chiaramente consentirà poi di poter fissare un profilo all'altro e questo quale prima di tutto non ci sono bisogna fare dei fori non dobbiamo inserire le viti di condizione questo tipo di sistema consente il ripristino totale della sezione appunto del profilo e poi cosa non indifferente cosa importante anche che non vincola le eventuali dilatazioni termiche a quale soggetta lo staffaggio visto che comunque è sempre una struttura che chiaramente essendo in copertura è soggetta a degli sbalzi quindi a dilatazione sbalzi termici e quindi di dilatazione termiche non indifferenti altri vantaggi dicevamo prima le graffe con le graffe noi riusciamo a coprire un ampio raggio di quelli che possono essere i pannelli con cornici quindi con cornici che vanno con spessori che vanno dai 30 ai 50 mm ma nel caso specifico vi sia la necessità di utilizzare anche dei pannelli senza cornice eventualmente c'è la possibilità sempre all'interno dei nostri cataloghi di utilizzare delle graffe apposite certificate per questa tipologia di installazione andiamo a vedere rapidissimamente le soluzioni di montaggio quindi andiamo a vedere cosa utilizzare in caso di diciamo in funzione del tipo del tipo di copertura cosa che gancio andare a utilizzare allora in funzione di una copertura parliamo di tetti inclinati con copertura in tecola abbiamo diverse tipologie anche in funzione del tipo di tecola che dobbiamo andare a diciamo a sormontare con il nostro gancio quindi partendo da un gancio universale regolabile solitamente nelle nostre pagine di catalogo comunque è tutto ben specificato ci sono i parametri tecnici e anche i fissaggi consigliati quindi anche per poi progettisti può essere utile e comodo anche in fase esecutiva potrebbe essere comodo poter avere indicazioni in tal senso e poterle eventualmente trasferire alle maestranze quindi un gancio regolabile per le te diciamo per le tecole che riscontriamo spesso sulle coperture quindi la marsillese la portoghese o il coppo di Francia lo stesso con un sistema diciamo di ulteriore regolazione sulla parte alta quindi la possibilità di poter girare il diciamo l'angolo l'angolo solar detto nostro di poterlo girare in un verso in un altro quindi di poter lavorare sia con i profili messi diciamo lungo la linea longitudinale rispetto alla copertura piuttosto che con i profili messi trasversalmente rispetto alla copertura stessa piuttosto che dei ganci un po' più semplici che consentono comunque sempre di poter lavorare su quelli che possono essere anche le tecole che troviamo nelle coperture delle tecole classiche quello che diciamo è il top sotto questo punto di vista che spesso consiglio perché dalle nostre parti capita spesso di avere dei tetti con coppo e contro coppo è il gancio universale regolabile che a differenza di tutti i precedenti ha delle regolazioni ben più ampie che consentono di poter lavorare in quelle situazioni dove per esempio abbiamo come detto prima una copertura con coppo e contro coppo chiaramente tutti questi articoli sono facilmente visibili sui nostri cataloghi anche sul nostro shop quindi questo poi e sono chiaramente a disposizione pure io nel caso ci sia necessità per poter dare indicazioni in tal senso andiamo rapidissimamente parliamo del gancio per le tegole piane quindi anche su copertura con la diciamo quello che poi è la tegola canadese anche lì possiamo andare a inserire un gancio che può essere dedicato per questo tipo di installazione non sto a perdere tempo per quello che poi sono le indicazioni di installazione abbiamo detto che sono delle installazioni abbastanza semplici abbastanza rapidi chiaramente abbiamo soluzioni io solitamente discuto sia con i clienti quindi con gli installatori finali ma anche con i progettisti discutiamo di quelle che possono essere le soluzioni in funzione della copertura quindi basta molte volte avere un'indicazione sulla stratigrafia di quello che è la copertura e avere anche un'indicazione di quello che vuole essere il numero di pannelli e la disposizione e vi do un elenco materiale e quello che può essere necessario per poter poi predisporre un montaggio di un fotovoltaico su una copertura in funzione delle diverse disposizioni quindi pannelli verticali e allineati su tegole piuttosto che al contrario e diciamo un'altra soluzione potrebbe essere quella del montaggio su tetti inclinati con copertura ondulata nel caso specifico andiamo a lavorare piuttosto che con dei ganci andiamo a lavorare con dei vitoni passanti vitoni passanti che sempre nel caso specifico sono sempre in acciaio nel caso specifico del vitone sono in acciaio inox e si trovano in varie versioni con già sono premontati solitamente quindi li diamo almeno quello che consiglio li do direttamente già premontati con dati rondelle e la cosa importante è la guarnizione PDM che viene messa in battuta qui alla fine che è utile per un discorso di impermeabilizzazione del punto che siamo andati a forare un'altra indicazione importante che do è quello di andare a utilizzare quando si va a appoggiare il profilo andarlo a lavorare in appoggio a quello che è il nostro angolo solar piuttosto che farlo lavorare a strappo quindi se noi abbiamo il profilo e andiamo a mettere il nostro angolo solar sul profilo facciamo in modo che l'angolo solar che questo angolo solar poi consenta l'appoggio del profilo solar piuttosto che andare a lavorare con l'angolo solar che poi invece tiene e quindi con rischio di strappo del profilo rispetto all'angolo stesso ci sono delle soluzioni che consentono di poter montare i vitoni sia sul legno che su acciaio quindi abbiamo delle viti da poter utilizzare direttamente con sono delle viti autoforanti direttamente sugli scatolari in acciaio chiaramente l'indicazione che do sempre è quello di verificare il diametro in funzione del diametro andare a rispettare quelle che sono le prefonature per garantire che poi il vitone riesca ad entrare in maniera uniforme e su quello che poi è lo scatolare di turno e andiamo a questo punto parliamo di lamiere aggregata sulle lamiere aggregate un'altra diciamo altra soluzione che spessissimo ci vede impegnati in tal senso spessissimo vedremo richieste di fissaggi di pannelli fotovoltaici su grandi dimensioni perché spesso la lamiere aggregata è diciamo una copertura di capannoni piuttosto che di immobili a uso industriale quindi su queste grandi coperture possiamo andare a lavorare con profili con profili con profili che vanno qua ce ne abbiamo gli esempi che vanno fissati direttamente sulla lamiere aggregata come come le andiamo a scegliere le andiamo a scegliere in funzione di quelle che poi sono l'orientamento del pannello quindi o in orizzontale o in verticale rispetto a quelle che sono l'andamento della lamiere aggregata quindi se lavoriamo con pannelli messi in orizzontale andremo a utilizzare il sistema alubic con dei profili che si vanno a fissare direttamente o attraverso dei rivetti o attraverso delle viti autoforanti opportunamente diciamo dimensionati si fanno a fissare direttamente sulla parte alta della greca quindi nel caso specifico andiamo a mettere come dicevamo il pannello in modo orizzontale con queste inspezioni di pannelli piuttosto che il pannello messo in verticale nel caso del pannello in verticale utilizziamo un altro tipo di profilo l'FMP anche in questo caso l'FMP si può fissare sempre sulla parte alta chiaramente perché lo andiamo a fissare sulle greche in maniera trasversale e lo andiamo a fissare come? con dei rivetti a strappo piuttosto che con delle viti autoforanti consiglio sempre di utilizzare una diciamo una cosa importante una cortezza importante è quella di andare a mettere prima di tutto il nastro IPDM tra la lamiera aggregata e quello che poi è il componente lo spezzone di profilo quindi andare a mettere intanto uno diciamo uno strato di IPDM che serve da isolante per evitare anche il trasferimento di eventuali correnti ma lo stesso serve l'EPDM serve anche per impermeabilizzare quel punto lì dove noi andiamo a fare il foro e per ulteriore diciamo impermeabilizzazione di sicurezza io diciamo consiglio sempre di andare a impermeabilizzare in corrispondenza dei rivetti con apposito sigillante strutturale apposito sigillante dedicato a questo tipo di lavorazione quindi dicevamo i pannelli messi in verticale con l'FMP poi una volta che l'FMP viene montato questo è uno dei montaggi che ci capitano più spesso e che ci dà le più grandi soddisfazioni perché i clienti sono sempre contenti della velocità di montaggio di questo tipo di supporto come vi dicevo rivetti a strappo piuttosto che viti per lamiera questi ne abbiamo di diverse dimensioni in funzione dello spessore serrabile in funzione anche del tipo di carico che si vuole si deve garantire e quindi sotto questo punto di vista possiamo dare posso dare io personalmente anche diciamo un consiglio un po' più tecnico al collega al collega piuttosto che all'installatore ultimo tetto piano con triangoli premontati quindi oltre al sistema diciamo direttamente poggiato sulla copertura inclinata possiamo andare a creare un'inclinazione lì dove non abbiamo chiaramente un tetto inclinato quindi sulle superfici orizzontali possiamo andare a ricreare con dei sistemi che noi abbiamo già pronti quindi con dei triangoli già premontati possiamo andare a creare le indicazioni necessarie il diritto necessario da dare ai pannelli in fase di chiaramente di staffaggio dell'impianto possiamo montare anche in questo caso possiamo decidere se montare i pannelli in verticale o in orizzontale in funzione delle richieste della committenza chiaramente ci saranno delle indicazioni da seguire e un quantitativo differente di articoli da andare a considerare nel caso del posizionamento dei pannelli in verticale andremo a lavorare sui triangoli con una controstruttura quindi con un profilo che cammina trasversalmente quindi con delle graffe che serviranno a fissare questo profilo in maniera stabile a quelli che sono i triangoli utilizziamo specialmente per le stringhe di grandi dimensioni su triangoli andiamo a dimensionare anche quelli che possono essere le controventature necessarie per garantire gli spostamenti e diciamo evitare eventuali spostamenti della struttura lungo l'asse verticale del triangolo e vabbè questo poi diciamo sono indicazioni meramente tecniche i triangoli sono regolabili quindi possiamo passare dai 10 gradi ai 45 in funzione della necessità appunto del progettista altri montaggi che possiamo fare con i triangoli li possiamo montare direttamente per esempio sulle lamiere aggregate capita diciamo non capita spessissimo però montaggi del genere noi li abbiamo fatto per esempio sulle pensiline degli impianti di carburante sulle pensiline di impianti di carburante spesso ci sono delle lamiere aggregate come copertura e spesso viene richiesta il montaggio di pannelli fotovoltaici è capitato abbiamo già fatto dei dimensionamenti in tal senso andiamo a montare con chiaramente dei vitoni passanti andiamo a valutare quella che è la struttura sottostante e tutto il resto andiamo a fare montaggi anche in queste situazioni possiamo utilizzare i triangoli con un'opportuna sottostruttura quindi andando a mettere dei profili sotto potremmo utilizzare i triangoli per andare a mettere delle zavorre quindi potremmo creare una sorta di stringa con delle sottostrutture appunto dicevo con dei profili inferiori su quali puoi andare a piazzare delle zavorre dedicate chiaramente tutto questo necessita dei calcoli ben precisi devono essere verificati il carico d'avento eventuali sovraccarichi poi sulla struttura e sotto questo punto di vista ogni volta che faccio questo tipo di intervento pongo l'attenzione su un articolo ben preciso dell'NTC 2018 appunto quello che parla dei criteri di progettazione degli impianti dove specifica appunto che gli impianti non possono essere vincolati alla costruzione contando esclusivamente sull'effetto dell'attrito bensì devono essere collegati attraverso dei vincoli rigidi o flessibili ecco questo è diciamo quello che solitamente pongo l'accento su questa cosa qua perché spesso mi è capitato di diciamo incontrare degli impianti montati su zavorra però lo stesso lo stesso zavorra deve essere deve essere ben diciamo tenuto in considerazione tutti gli aspetti che l'andare a zavorrare una superficie può portare andare a zavorrare un sistema di impianto fotovoltaico può andare a portare diciamo in termini di anche aspetti fra virgolette negativi per concludere con questo finisco chiaramente è un tipo di intervento che diventa diciamo obbligatorio non diciamo è obbligatorio nel momento in cui andiamo a mettere un impianto fotovoltaico sulla copertura sarà necessaria la linea vita la nostra linea vita è penso abbastanza conosciuta mi auguro che sia anche abbastanza conosciuta fra voi colleghi e di questo chiaramente me ne occupo sempre io c'è un altro collega anche sul Messila ci occupiamo di andare a fare la dimensionamento la progettazione di impianti linea vita e quindi non aspetto altro non aspettiamo altro che vostre richieste per potervi aiutare e supportare al meglio in quelle che possono essere diciamo le problematiche giornaliere di noi ingegneri detto ciò vi ringrazio per l'attenzione e spero di sentirvi e rincontrarvi presto grazie a te Marco e grazie a tutti voi della VIRT vediamo se c'è Francesco se no chiudo io Francesco ci sei? sarò andato a dormire allora vi ringrazio e ci vedremo sicuramente in qualche altra occasione perché come ordine ci siamo trovati molto bene con voi e saluto voi saluto tutti e se ci dovessero essere forse c'è una domanda per te se la vuoi leggere direttamente in chat nel caso di impianto radiante per i menti per Marco per Marco greco per Marco greco impianto radiante Marco non so se c'è se vuole rispondere non so se c'è non so se c'è comunque io faccio una foto magari ma magari sono andato direttendo la foto a Marco magari vedrete la risposta tramite francesco facciamo avere la risposta perfetto ti ringrazio buona serata buona serata a tutti un saluto a tutti buon fine settimana grazie grazie a tutti grazie a voi vi confermo che domani c'è il corso domani alle ore 15 ci vediamo a domani buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti